E chi c'è? Bestiace come al solito ritagliati male, guardate che meraviglia il maestro, l'orecchio del maestro, stai scattando per quale motivo? No ma com'è possibile? Com'è possibile? Dopo internet? Bene, 10 gigabyte di internet a disposizione in upload e in download non bastano per mantenere sterile, scusate, sbagliato termine, per mantenere stazionaria l'immagine del maestro che riesce a rompere gli atomi e la fisica e anche i coglioni ed eccoci qua. Bestiace un piacere, un onore, bentornati in questa nuova ed incredibile live, day one, ma sono un deficiente, non ho cambiato il titolo, vi ho preso per il culo, non c'è nessuna horror night, incredibile, titolo clickbait, no ragazzi ho sbagliato, scusatemi, non mi ero dimenticato di aggiornare il titolo, Oggi facciamo Nightingale, day one, quindi siete ancora in tempo per schiappare se volete, allora aspetta che ricambio, fa attenzione perché tutti questi titoli che iniziano con N mi mettono una pressione addosso devastante, quindi devo cercare, guarda sei proprio un... Michia stavo per farlo spelling Andrea, titolo del gioco di oggi, se tu leggi lettera per lettera la prima parte... I-G-H-T Cosa lo spegne? Sì vabbè, Nightingale, Nightingale, day one, gioco della vita, power... Gioco, giochiamo con le carte, con i cartoni, con i cartoni... I-Stangay... Ok, a posto, aspettate ragazzi, abbiate pazienza, per favore, non ce l'avete? Non ce l'avete? Nightingale... Non è un problema... Eccoci qua, oh, oh, tutto quanto è stato riportato al suo ordine, allora bestiacce vi dicevo, oggi giochiamo a Nightingale che è un gioco particolare perché lo stavamo aspettando da un po', chiedo perdono, ed è un titolo... Ed è un titolo, chiedo veramente tanto perdono, ed è un titolo che questo canale sta diventando una merda, ed è solo... Vabbè, ma tu non lo fai per roba e terrestre, tu lo fai perché purtroppo... Lo faccio perché ho l'ernia di Attale, ragazzi, quindi per favore, non prendete per il culo, non dite... Non è una gang, non è una gang... Sei un volgare, che schifo, che schifo... Canale di merda, canale di merda... Mi dispiace, mi dispiace ragazzi, ma purtroppo è una condizione la mia, non posso farci niente, potrei trattenermi... Ma se non esce da sotto, devi uscire da qualche altra parte... È un malus, è un malus... Quindi stavo dicendo, figa, Nightingale è un gioco particolare, molto peculiare, vi faccio vedere il trailer nel mentre che ne parliamo, perché... Ah, ho scoperto perché l'hanno recensito male, comunque... Perché, vabbè, sarà ottimizzato col culo, come al solito... No, perché è Walk... Ah, è Walk, ah, Policy Walk, perfetto... Allora, non mi piace, ma comunque ragazzi, la parte stai stronzata, è un gioco GDR Fantasy Multiplayer con mostre di qualsiasi genere, biomi di qualsiasi genere che si possono personalizzare grazie all'usilio di carte. Prima di entrare nel portale che ti porta, perché il portale che fa ti porta, in un mondo tutto nuovo, tu puoi personalizzare questo mondo collezionando delle carte. Intanto guardate che splendido customization del nostro personaggio Walk, perché questo in realtà è un maschio, incredibile. È tutto Walk, è tutto Walk, tra l'altro Walk riempie la parola... L'altro Walk è quella, la pentola cinese dove fai il riso alla cantonese. Ecco, questo qua è un gigante babilonese, questo è un albero babilonese, quello è una roccia babilonese, questo è il pelo babilonese, qui abbiamo una canna da pesca per prendere pesci estates. Il bel pesci babilonese. Estates, c'è anche ovviamente la costruzione, c'è anche ovviamente la distruzione e per nostra gioia c'è anche la riflessione, la riflessione interiore, perché questo è un titolo Walk, quindi mi raccomando. Adesso che Andrea mi ha detto questo... È bella quella casa, è bella quella casa... Ho quasi voglia di spegnere tutto e giocare al diverso. No, almeno lo dico le recensioni. Comunque sì, nella media si è scritto, andiamo a leggere una recensione casuale a caso. Always online if you play solo is not a good idea e quindi gli ha messo uno sconsigliato su Steve. Allora, gente come te non dovrebbe avere accesso a Inter. Non dovrebbe avere diritti e accesso a materie prime quale acqua e cibo, perché veramente io mi incazzo, non ha senso scrivere ste puttanate per una roba così oggettiva. C'è gente soggettiva, c'è gente che si diverte tantissimo a giocare da solo anche se gioca multiplayer. Che cazzo vuol dire? Non vuol dire niente. Comunque... È un problema tuo se non ti diverti. C'è gente che non ha amici. Voglio dire, non può fare altro, quindi non cagate il cazzo. Detto ciò ragazzi, quindi stasera portiamo questo, ovviamente adesso il TG Dino, ma prima, ma prima un'onorevole edizione al nostro, incredibile sponsor. Andrea per favore indicalo. Instant Gaming, guardate che meraviglia. Se volete i giochi fino al 90% di sconto sia indie che AAA, tra l'altro Nightingale l'ho preso su Instant Gaming rispermiando un pochino, ammetto un pochino. Però, eh, trovate tutto quanto lì, utilizzate il nostro link per farlo, così non solo ci date una mano, ma almeno vi togliete la colpa dalle spalle. Perché se non usate il nostro link, siete degli stanzi. Vergognatevi, vergognatevi. Quindi chiavate, mi raccomando, cioè nel senso, comprate le chiavi su Instant Gaming. Esatto, esatto, mi raccomando. Allora, bestiacce, partiamo con delle notizie straordinarie, posso? No. Ma cosa è successo a... Ah no, niente, scusate, ho avuto un ictus per un istante, non vedevo più la schermata di... Pronti? Vado, 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 vado. Vado con la sigla? Ci sono, eh? Partiamo? Vada. Ok, ok, ok. Ho mantenuto il respiro per tutto il tempo, infatti adesso vedo doppio. Bestiacce, incredibile, si parla di Hell Divers, che è un gioco che ci invidiano in tutto il mondo. Pensate, il Divers è riuscito a superare... No, perché è su PlayStation. Il Divers è riuscito a superare addirittura i download di GTA, non sto scherzando, di GTA... Cioè, avete presente GTA? È riuscito a superare GTA, è riuscito a superare i numeri anche God of War, Ragnarok, per dire, le esclusive Sony. E il Divers è una sorpresa. No, in generale il numero di vendita, anche perché è uscito anche su PC. È la prima volta che Sony fa cicciare fuori una sua esclusiva sia su PlayStation che su PC. Questo potrebbe essere un nuovo inizio per Sony, spero anche, un nuovo approdo di nuovi giocatori. Il Divers 2 è un gioco della Madonna, però ci sono dei piccoli problemi, come ad esempio il problema dei server che sono strapieni, perché c'è gente, non sto scherzando, che per fare i video del cazzo da mettere su TikTok, che avete presenti, quelli con la musica di Avatar di sfondo, occupa i server tutto il cazzo del tempo. Quindi andate a cagare, andate a cagare, ed ecco qua, guardate, è il Divers 2, il boss di All Divers 2, che non è una persona, è proprio un alieno, dice che dovreste aspettare di comprare il gioco finché i server non si sistemano e ci vorrà un pochino perché ci dice anche che risolvere il problema dei server, il problema dei server troppo pieni, non è una roba che si può fare velocemente, perché non è che devi aggiungere qualcosa in più al gioco, si tratta di ampliare una struttura fisica, bisogna avere più server. I banchi server. I banchi gay. Quindi in sostanza bestiaci... I bianchi? Ah, i banchi. E che cazzo ne so io cosa stai dicendo, e quindi bestiaci in sostanza dovete attendere, mi dispiace, però ragazzi fa parte un po' di quello che... Diciamo che è palese che non si aspettassero tutta sta gente, è palese che non si aspettassero tutto questo successo, io sono felice di essere un veterano di All Divers 1 e di poter dire con orgoglio che All Divers 2 ha superato di gran lunga le mie aspettative. Poi, a caso, completamente a caso, io voglio farvi vedere il trailer di Borderlands e voi direte ma basta quel gioco di merda? No, no, attenzione, non il trailer di Borderlands il gioco, il trailer di Borderlands il film, o la serie tv, non so se è un film o una serie tv. Madonna mia, vabbè che non cambia niente ormai. Ah, il film, il film su Borderlands, andiamo a vederlo insieme. No, ma il fatto è questo, io non so per quale motivo c'è sta voglia pazza di portare... Cioè, non hanno più idee, devono ciucciare dal mondo dei videogiochi, a me sta cosa mi ferisce, però Borderlands, devo dire che un po' si presta. Guardiamolo insieme, guardiamolo insieme. Per ecoregia. Eccolo qua, guardate che roba, ragazzi. Madonna mia. Basta? Che è successo? Una sventina. Quanto hanno speso per questo trader? Questo trader ha 600 milioni circa, per probabilmente in... Basta? Finito? Vabbè, va bene. Finito? Va bene. Finito? Chinito. Chinito. No, Chinito no. Borderlands trailer tomorrow. Vabbè, insomma, in sostanza, andiamo ad analizzare un attimino quello che si è visto. Cazzo. Abbiamo i personaggi rapportati a quello che è il mondo. Come si chiamava il robottino? Clubtropper, tropper, non mi ricordo più. No, ragazzi, Borderlands ha omato il primo capitolo, il secondo è stato interessante, il terzo l'abbiamo giocato in live un giorno e poi... C'è il primo gioco, il primo storico gioco che mi ha regalato. Uno dei primi storici che mi ha regalato e poi... Clubtropper. 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 Comunque, lei fa la... Lei è la sirena, giusto? È possibile? No, lei era la... Era la sirena, lei? Eh, sì. Vabbè, ragazzi, non mi ricordo più. Comunque, come potete vedere, la somiglianza non c'è. Poi andiamo avanti, anche perché una ha 21-22 anni, l'altra ne ha 61-62. Cos'è contro le MILF, scusi? Poi abbiamo l'altro pupazzo, il cui nome non mi ricordo, interpretato dal buono e caro. Da 50 Cent, che cazzo ci fai? Ma va, ma che 50 Cent, Dio buono, da cosa? Da Kevin Hart, dal cuore Kevin. Guarda che meraviglia. Però è uguale. Però devo dire che effettivamente c'è, oddio, ha completamente un'altra fassa. Però voglio dire, alla fin fine, non mi ricordo esattamente il carattere di questo personaggio. Lui è un bravo attore, dai. È un pirla, nel senso buono. Ci fa ridere. Sì, fa ridere. Poi abbiamo lei, la coniglia, che se notate qualche piccola differenza, perché una piccola differenza si può notare al volo, c'è, piccolissima, però è uguale identica. Solo che, appunto, una è fatta in CGI e l'altra no. Devo dire che questa qua, secondo me, è azzeccata. Poi abbiamo Club Trap, che come potete vedere, non cambia un cazzo. Perché? Perché è l'unico personaggio rifatto in CGI. Incredibile. Forse la verità viene a galla, forse la verità è che dovreste smetterla di prendere attori e iniziare a fare lungometraggi animati sui videogiochi, che sarebbero molto più graditi. Molto, molto, molto più graditi. Molto più graditi. La faccio uguale, sì, sì, la faccio uguale. Club Trap, effettivamente, guardate l'occhio, incredibile, stesso colore, stessa forma. C'è addirittura più dettaglio, c'è addirittura una miglioria incredibile. Quindi direi che hanno preso, ragazzi, tra l'altro questo attore è un bambino coreano che è partito dal nulla, non aveva soldi, non aveva niente, aveva solo un desiderio, un sogno nel cuore, ed è riuscito a diventare un robottino. E adesso recita nei panni di Club Trap. Quindi un applauso, un clap al nostro Trap, incredibile, mentre che Andrea si è frisato. No, perché hanno scritto che qualcuno ha regalato tanti abbonamenti. Comunque non lo trovo, vabbè, grazie a chiunque che tu sai che hai regalato tantissimi. Piragna, come al solito, 5 abbonamenti, è uscito di testa, perché è un pazzo, è un pazzo, è un pazzo. Poi abbiamo lui che è esattamente identico, devo dire, pensavo fosse Tom Hardy, questo è Bane. Pensavo fosse Tom Hardy. È Bane, è Bane. È Bane, sì, sì, è Bane. E poi abbiamo l'altra che non mi ricordo. Ragazzi, non mi ricordo i nomi, perdonatemi. Ho giocato sto gioco 500 anni fa quando uscì al Day 1. Ma poi c'è tutti i personaggi di Borderlands 3, c'è. Ah, di Borderlands? No, non mi sembra. Sì, Borderlands 1 manca l'Hudge, Jack, come si chiama? Jack il Bello. Jack il Bello. Non c'è Jack il Bello. Vabbè, sti cazzi, comunque bene o male. Allora, devo dire che... Ovviamente... Ovviamente hanno cambiato quello che dovevano cambiare per i personaggi, però gli hanno dato la stessa personalizzazione. Sembra una versione un po' resciacquata, un po', come si può dire, gay, di Mad Max, però effettivamente... Una versione walk. Una versione walk di Borderlands. E quindi niente, bestiasse, queste erano le notizie allucinanti del tigirino di stasera. Non vedo l'ora di provare questo Nightingale, di deludermi e poi di giocare al Divers. Prego. Attenzione. La guerra prosegue su torrente malevelo. Non dovevo uscire anche il film di Fallout, chiedono. Non posso risponderti, non posso risponderti perché il tigirino è finito. Ah, ok, per contratto. Nessuna informazione dopo il tigirino. Mi dispiace, funziona così. Cioè, se finisce il telegiornale non è che dici, ma scusa, non è che chiami il cronista, ma scusa, ma la notizia... No, ormai è andata. Ma il meteo vi siete dimenticati? Mi dispiace, è finita. È finita. Allora, questo è successo, ragazzi. Adesso vi saluto e iniziamo a giocare. Stasera abbiamo nell'ordine decrescente Piragna, Mr. Poteto. Vada, vada. Piragna di nuovo. Kawaiili. Kawaiili? Kawaiili, sì. Kawaiili. Gaetano Osvaldo II. Beh, wow. Che ci dice... UPE, sì, si va per l'anno. Grandissimo, bestiazza. Arans, questi ovviamente sono i sub. Donatore anonimo, ma di sangue sicuro. Ideti, Cedra Creature, Pinolo, Uomo in Banca Rotta, Lolololo, Bane Winchester, che ci dice quasi un anno di risate e infarti. Guarda, proprio in quest'ordine. Grazie mille, bestiaccia. Daniel Mistri e Excalibur, grazie bestiaccia. Rotu Valhalla, grazie mille per gli abbonamenti. Ricordo a voi, sub, che avete Telegram e su Telegram potete trovare video inediti solo per voi riguardante il progetto IRL Horror Night. Mi raccomando, ragazzi, è una roba molto figa la quale ci stiamo... Andrea, fa cagare quell'unghia, per favore. Ci hai fatto pure una storia su Instagram, è una merda, è una merda. Io stavo mangiando in quel preciso istante. L'ho fatta apposta a quell'ora. Porca troia, fai una bella roba. Guarda, tieni il dito dritto così. La facciamo saltare. Guarda, tieni il dito dritto così. E non è più nera. Guardami, guarda, e fai questo contro la scrivania. Se salta qualcosa, se vediamo un dente saltare, ragazzi, vuol dire che ha funzionato. Poi abbiamo Leopro. In chat chi c'è? Smemonet, Dragone, Tress, Ice, Sunnytube, Lucifer, Cipollinot, Ascella Prepotente, Blaine, pochi altro. Sara, Caffè Caldo, Fanel, Matib, pochi altro. Guerminchia, bellissimo. Ermellino, poi abbiamo Damantias, Nonno Tattico, Uomo in Bancarotto, ovviamente che si rimanifesta, come giustamente deve fare. Poi abbiamo Belverite. Come sono i Bancarotti e i Nonni? Allelobbo, Dascione, Heisenberg, attenzione, Giada Finotti e poi Degast. E l'ultimo, ma l'ultimo? Chi è l'ultimo degli ultimi, ragazzi? Ciccio Pizzetta, ho detto io. Che verrà servito, come è? Ciccio Pizzetta. Ciccio Pizzetta? Non è abbastanza ultimo, secondo me, con un nome del genere sicuramente è ramato a scuola. Le pezzette sono buonissime. Esatto, l'ultimo degli ultimi è White Lion 25. Bestiaccio è un piacere e un onore. Ah, il leone bianco, il leone bianco. Il leone bianco, sì. L'ultimo leone bianco. È un piacere, andiamo avanti. È un piacere e un onore, bentornati nella casa del signore che gentilmente occupiamo di forza maggiore. Allora, tu sei pronto per Nightingale? Certo, ero nel mood di combattere per la Super Terra, perché ormai il mio destino è quello. Io no, perché ho chiuso Steam. Allora, gioca adesso. Ragazzi, non ho avuto tempo di settarlo perché oggi sono stato di corsa tutto il tempo. Quindi speriamo che parta funzionale. Se così non deve essere sti cazzi. Se così non deve essere sti cazzi. Non penso sia... No, la mia. Ok. Aspetta che, a me continuo a laggare il computer. Che cazzo succede, porco due. Non è importante la tua immagine, l'importante è il tuo ricordo. No, no, ma il computer. Proprio mi sta laggando il computer. Bene. Tutto, non l'immagine. Io non vedo niente. Ok, power by wise. Wise. Ok. Saluteci il signore. Come salutaci il signore di cui occupi la casa? Il signore di cui occupi la casa è uno e soltanto. Early access. Next. For the best playing experience. Update drivers. NVIDIA. Exchange. Stable internet. Agreed. Ah, ecco. Fatto con la real engine. Ma guarda, cosa non è fatto con la real engine ormai? Sinceramente. È grave. Io ho visto una persona per strada che era fatta con la real engine. Click here to full end user agreement. Accetto and proceed. Non leggo un cazzo, non me ne frega niente. Ho appena fatto un patto col diavolo. Abjust brightness so that imagine inside the frame above is barely visible. Allora così, però voi vedete un po' più scuro, quindi la tengo a metà, bene. New profile, new profile. Allora, settaggi dovrebbe essere in italiano, non vorrei dire stupidate. No, ci dovrebbe essere, se non sbaglio. Eh, dovrebbe esserci. Gameplay, sensitivity, game input. Mi piace però lo stile walk di queste scritte. Devo essere sincero che... Gameplay, interface, English. Eccolo qua. Italiano. Applica. Ah, ah, meno male. Accessibilità in arrivo, non è accessibile il gioco. Finestra senza bordi, cioè non c'è schermo intero. Modalità schermo intero. Applica. Rispiti per il culo, vabbè. Allora, risoluzione, 1080. Arachnofobia, attiva arachnofobia. Qualità ultra. No, dov'è il V-Sync? Perché vedo che sto... Ragazzi, perdonatemi, queste sono tutte le robe che deve fare un PC gamer per poter dire di avere un mezzo più potente di una persona che... Dopo aver speso 4.000 euro. Esatto, una persona che ha speso solo 500 euro. Eccolo qua, attiva sincronizzazione verticale. Dove cazzo è, su? Eh, sotto qualità ultra, distanza di visione. Ma dove? Interfaccia, gameplay, video. Grafica. Che? Alcune modifiche non sono state salvate? Applica? Non so che ho fatto. Sotto distanza di visione c'è attiva... Distanza di visione. Attiva sincronizzazione, ok. Applica, a posto. Buono, così. Eh... Ah, poi direi che ci siamo. Chiudi. Via. L'audio com'è, ragazzi? Va bene? Rompi i coglioni. Attenzione, sono grande capo Manuk. Ti do il benvenuto a Nightgale. Inizia selezionando di base. Wow. Poi scegli il tipo di corpo e l'aspetto predefinito tra gli archetipi disponibili. O gli archetipi. Archetipi. Per il momento, una volta finalizzate, le opzioni relative all'aspetto non possono più essere modificate, ma provvediamo di aggiungere questa funzionalità in futuro. Zoom. Sembra il mio commercialista, da come non si capisce un cazzo. Cioè, il tuo commercialista è un nativo americano indiano? Buono. Sì. Beh, giustamente. Allora, fase 1, fase 2, che cazzo vuol dire? Scusami. Vabbè, andiamo in di base. Possiamo scegliere. Oh mio santo cielo. Ah, Andrina Walk. No, ragazzi! Il topolino sottosfratto! È l'altro fratello! Quello di lui, il fratello è un fratello. È lui, come cazzo si chiama? È quello della trappola, no? È quello che gli cade il mobile sulle dita. Quando si fa male, ti ricordi? Andrei, bellissimo il topolino sottosfratto. Ecco, sicuro. No, ragazzi! Il topolino sottosfratto è lui! Poi abbiamo... No, ragazzi! Poi abbiamo il samurai. Vera. Ma perché c'è solo donne? Eh, Andrea, è una tua scelta. Età? 38. Pfff. Ma perfetto. A 38 lo vedi che si ferma a un angolo fa... Non è tanto il caldo, ma l'umidità. Ma io ho fatto 50, guarda. Lui invece è quello... Questo qua, Andrea, guarda, è quello che aiuta Mr. Incredibile a cambiare casa. No, questo qua è Edgar degli Aristocati. No, Edgar degli Aristocati. Anche, è vero, è vero. Ok, abbiamo trovato l'archetipo. Ricordi, la crema di crema alla Edgar. L'archetipo. Attenzione, arancia meccanica, guarda. Ma ci sono tutti. Quelle scherzature. Ci sono tutti. Voce. Non sento. Che? Tutto a posto, Andrea. Che è successo? No, perché come cazzo vengo e carli subito? Non verrebbe in mente subito. Ci sono tutti. Ma io non sento la voce. Cioè, c'è set 1, c'è set 2. C'è set 1 allora a sto punto. Ma come Kratos, manche me. Ma sì, ma avete rotto le balle, ragazzi. Avete rotto le balle. Adesso ogni roba pelata è Kratos. Una è pelata è Kratos, porco d'Inch. Adesso vai al supermercato e vedi veramente, non lo so, dei tuberi. Allora, io metto 16. Io metto 16 di età. Va bene, va bene. Allora, storia. Accademico, uno studioso erudito, esperto di scienze fisiche e umanistiche. No. Reggente, tutto fare. Tutto fare, abile e pratico. Trascorrivi la maggior parte delle tue giornate lavorando. Ridicolo. Eremita, un eccentrico solitario, vestito così. Questo è proprio Andrea. Ufficiale, ufficiale militare. Sì, ma è diretto Kingpin adesso. È vero. È abituato sia alla dura vita che sul campo, che ai festeggiamenti con la leggenza. Non c'è tipo spreco d'ossigenza. Eccolo, perdi giorno, Wayne Bloodborne. Un piccolo criminale con le poche prospettive. Poi c'è senza tetto. E senza tetto sto proprio toccando. Ma con già che cravatta l'homeless? Ma c'è la barba, scusami. Mi sta venendo in mente. Esiste la barba? No. Però forse gliela posso mettere dopo. Allora, io lo faccio senza tetto. La vita ti ha riservato l'accattonaggio. A lungo i periodi di... Stirpe cosa vuol dire? L'hai vista? La stirpe? Sotto. Non l'ho visto. Fase 2 c'è scritto. Personalizza il tuo aspetto. Il colorito. Il colore degli occhi. Il trucco e altro. No, è tipo nella stirpe puoi fare tipo l'albero genialo. Genitore 1, genitore 2. C'è, oh. Incredibile. Acchiazze. Posso farmi acchiazze? No, va bene così. Cicatrice. Funzionalità successiva. Tatuaggio. Funzionalità successiva. Peliviso. Finalmente. Beh. Una mangusta. Ah, ecco perché è uok. Perché c'è genitore 1, genitore 2. Puoi fare due genitori maschi. Masticazze. Allora, è ambientato nel... Cioè, dovrebbe riprendere concettualmente il... Il mille... Sì, lo steampunk. Sì, 1700-1800, to. Quindi ci sta. Lo faccio coi basettoni. Ovviamente non andiamo a scegliere... Andrea, dici che questo è fuori luogo, questa acconciatura. No, vabbè, sono semplicemente dei buffi. È effettivamente storico, però. Semplicemente è un tipo di buff. Cioè, ragazzi, effettivamente è storico. Nel senso... Ah, le cicatrici non ci sono. Devono ancora metterle. Cipigna. Vabbè, a sto punto abbiamo scelto dunque... I buffi che ci piacciono, testa. È luce, è luce. È parecchemente Charlie Chaplin, ovviamente. Orecchie, va bene così. Guance, va bene così. Naso, va bene così. Profilo mento. Ah, ma cazzo, è molto personalizzabile, eh. Non mi interessa, comunque, perché non ho tempo. Colore occhi. Non so se mai lasciare gli ariani. Facciamo così, lasciamo perdere. Guance, trucco. Fase 3. Selezione delle circostanze. Difficoltà. Normale. Finalizza. Facciamo difficoltà normale, Andrea? Ovviamente non riuscirò a entrare io. Cazzo vuol dire. Più alta è la potenza reame, più arduo sarà il reame. Non sto capendo un cazzo. Indica le difficoltà del reame iniziale. Ogni reame che visiterà in seguito sarà diverso. Ma vorrei giocare io. Finalizza. Mi posso il nome e non... Wow. Bellissimo. Scegli il nome del tuo personaggio. Eh, la capela capela, ok. Come lo chiamo? Eh, lui. Beh, effettivamente. Facciamo così? Guarda, lo chiamo così. H-I-M. No, him. Ah, lui. Him. Him. Gioca. Ma sembra veramente un uomo. Spavento, chi cazzo ha parlato? Dimenzietà. Aspetta che c'è la storia, Andrea. Vincita fatissima, Andrea. A me non ho scelto la mia madre e mio padre. Ah, io sì. Ho fatto due gemelli. Massimo. Al 2024. Mai stati così muti per così tanto tempo? Mi piace l'intelligenza artificiale che hanno usato per fare questi disegni. Con Big Journey. Big Journey, veramente. Tesla? Difugio a Nightingale. Quindi è proprio un reame Nightingale. Sì. C'era Sersin. Madonna, quanto messo sul cazzo. Forse non tutto è perduto. Lui è figo, mi ricorda il fauno del labirinto del fauno. Vincita quel fauno lì. Il gran fauno lì. E' un'enlightenment. E' un'enlightenment. Un'enlightenment. Boom. Si parte? Partiamo dalla terra delle fate? E' fatta? Che faccio a finalizzare? Per far funzionare alcune stazioni di lavoro e raffinamento come ad esempio il fuoco ed accampamento del bracere, è necessario il carburante. Grazie. In attesa del server, o no? Madonna, come tu rucchetta male Andreina. Vabbè, poverina, ha 16 anni, non ho ancora imparato. Beh, micchia, a 16 anni sei già donna, fatta è finita, eh? Nel 1700 sei già anche sposata, eh? Sì, sì, sei già quasi, alla fine della tua carriera. Dovresti vergognarti, dovresti iniziare a pensare effettivamente ad avere un fatto. Allora, carte del reame non disponibile. Frazioni presenti non disponibili. A sto punto direi proseguiviaggio, perché, voglio dire, PNG e creature. Allora, non abbiamo delle carte da segnare. Allora, secondo me stanno giocando tutti a Eldivers, quindi riusciremo a entrare. Allora, non avendo delle carte da segnare, perché ancora non le abbiamo trovate, però vedete che noi possiamo personalizzare il nostro reame con le carte che troviamo in gioco. Quindi, diversi reami, qui saranno le carte dei reami, le fazioni, quindi le creature che troveremo che comanderanno il posto, poi gli NPC da trovare con gli scambi, la creatura alfa, che penso sia la boss fight, le creature potenziali, le possibili creature che possiamo trovare e cacciare. È fighissima sta roba. È tipo coso, mi chiamo End of Fate. Eh, eh. End of Fate. Garcando. E fanno bene, chi? Bello la rialengine. Minchia. Pucca. Let my world steer your steps. Ma in prima persona. No, in realtà puoi metterti anche in terza, però non sul tasto. How? Madonna mia, la sensibilità è imbarazzante. La sensibilità del mouse è devastante. Allora, sistemi. Come segnala un errore? No, volevo solo impostazioni. Impostazioni, gameplay, interfaccia. No. Come interfaccia? È la sua gameplay, associazione e tasti. No, 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 da nulla. Tutorial, velocità, dimensioni, sensibilità. Annulla, annulla, vabbè, applica, va affanculo. Ah, devi andare su sensibilità che è al minimo, effettivamente. Ma dove? Dov'è? Su gameplay, interfaccia? Su impostazioni e gameplay. Oh, grazie. Dove cazzo è sensibilità? Ma mi chiamo, perché è così? Io l'ho messo, la metto a 6. Ah, perché c'è un numero. Ah, 6? Ah, madonna. Ah, metà più o meno. Oh, a 6? No, a 6 mi sa che è peggio. Un po' troppo, ma che cazzo? Vabbè, 4 qua, 4. Mi potete dico qua? Ragazzi, vi chiedo scusa, perdonatemi, ma sta roba purtroppo avrei voluto farla prima. Oh, molto meglio. È però, 4,5. Ma che bello sto posto. Allora, la ghicchia un po', però, vabbè, diamogli tempo perché è il day one. Ah, ma ci premo 1. No, ci premo 1. Non c'è nulla da fare, nulla da raccogliere. Le mani. The main. The main. The main. Protagonist. The main. Ho tirato un pugno, un cestino, un barile. Tra l'altro Puck è il folletto di Shakespeare, là, di un sogno di una notte di mezz'estate. Sì, sì. E adesso creatura di carne dove vaghi? Guardendoti tra le nostre terre selvagge delle faglie. Un caudio. Vado di qua. È il terringo, va. Se c'è da salire, io solitamente scendo. Questa è la mia filosofia, nella vita... Ah, se premi testo fa tipo il... Come si chiama? Giocajue. Attenzione, boss fight. Ma che figata è la Puck. Uh, è lui? Puck. Che figo che sei. Parla con Puck. Le ombre abbandonano eppure con le ultime braccia di fuoco tu rifiuti di lasciarti spegnere. Audio altissimo. Prendi questa carta insanguinata. Gioca le lascia che si staviscono l'amabile legame tra le fate e gli esseri umani. Dammi la tua mano. Dammi la tua mano. Avrei macchina delle carte. Carta della foresta. Allora, se una persona viene da te e ti dice ome sit in cunnelum. Tu cosa fai, Andrea? Abbiamo la polizia. Anzi, dirò pure lo spero di veroncino. Perché l'audio è incredibile. L'audio è... E basta. Raggiungi rapidamente il sentiero con la foresta al di là dello sparte acqua. Un duono più grande a tendere. Cioè, io sto alzando la voce, la sto alzando anche lui. Sembra che lo faccia a posto. Sì, sì, lo fa per leggermente a posto. Arrivederci. Adesso l'audio lo sistemiamo, ragazzi. Allora, ho capito che devo fare, eh. Devi mettere le carte lì? Allora, volete che abbasso l'audio? E adesso vi abbasso l'audio. Diciamo, audio generale, 60. Voce dialoghi, l'abbassiamo. Audio generale. Musiche facciamo così. E effetti lasciamo lì alti. Così mi spavento come piace a voi. Questo, perché c'è un tipografo qua? Apri macchina e le carte lì. Penso che c'erano le stesse. Carta della foresta e carta del sentiero. Tu che bella la foresta. Gioca questa carta per creare un reame con una foresta lussureggiante. Sto gioco già mi sta piacendo, ragazzi. Il primo reame mai scoperto era una lussureggiante foresta che spinse i cavalieri della rossa croce a credere ironiamente che le terre selvagge delle fate fossero simili agli habitat della terra. Quanto si sbagliavano. E poi abbiamo... E poi abbiamo la carta del sentiero. Gioca questa carta per creare un muscolo reame di paesaggio. Non ho capito. Esistono piccole terre selvagge che fungono da percorsi tra reami più grandi come passaggi segreti. Ah, ok. Un'altra ricostruzione B. Per gli dèi. Fly. Ruote mode Z. Ma si cambia la visuale? Non c'è per cambiare la visuale. V di visuale? Ma si vedeva in terza persona nei trailer. Sto entrando, sto entrando. Vedete cosa intendevo dire con personalizzazione dei propri biomi, del proprio gioco. perché attraverso le carte noi possiamo modificare tutto. Ah, guarda che c'è già il vestitino. Cappotto della CCCTC scadente. Twitch contestualizza, ovviamente si tratta. Hai scritto CCCTC. Puoi estrarre polvere essenziale dalla maggior parte degli oggetti del tuo inventario. Effettivamente se sgretoli se metti sotto una pressa idraulica qualcosa diventa polvere essenziale tutto effettivamente. Cioè essenziale. Se mi metti sotto una polvere sotto una pressa idraulica divento polvere essenziale anch'io, immagino. Ci siamo. Per un'unità è una squadra creane uno scappa attraverso un portale. Che vuol dire? Ma è per lì. Andrea, sto per piangere. Sì, sì, è bellissimo il bosco. Un sogno lucido? Trova Puk. Fighe davanti a me. Cioè, porca puttana. Obiettivo. Trova Puk. È là. Puk, t'ho trovato. Contati tra i pochi fortunati che sono riusciti a fuggire dalla plurifezione nociva del pallore. Non capisco cosa tu stia dicendo. Nightingale è ancora in piedi ma la terra vacilla sull'orlo del baratro e queste lande selvagge sono tutt'altro che ospitali. Ah, lui è Obeyron, il re delle fratte. Hai subito un sequestro e ora soffri molto. Mi sorge una domanda. Sopravviverai? Il dono che ti ho promesso dovrebbe esserti d'aiuto. Una guida ermetica è un orologio da tasca rubati dal cavaliere di un'altra vie attraversare a... Ma quanto è piccolo log delle azioni in basso a destra per curare di un'altra? Non sto capendo nulla. Ora che le creature vengono in un'altra... Nel frattempo sento il tuo stomaco bla 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 prenditi una pausa dalla miseria e rimpinzati... Giustamente che ci siamo dei barboni e rimpinzati di un banchetto degno di una creatura di carne. Oh... Sì, un po' me... Se la tira un po', ragazzi. Sì, vabbè, è un dio. Allora, ha detto che posso nutrirmi di tutto ciò che trovo. Partiamo da questi fiorellelli qua. Gnamme. Allora, c'è il menu? Eccoci. Vedere... Allora, devo essere sincero che vedere him, lui, Adolfo in mezzo a questa meravigliosa ambientazione mi fa pensare positivo. Mi fa pensare a una linea temporale a un universo diverso. Un pezzo di cerve che ti vengono in bocca. Cioè, nel senso... Eh, Andrea... Tu dici ovviamente con il tuo storico. Sì, sì, è... Li prendo, li prendo. Oddio, gli ho tirato un pugno in culo. No, aspetti! Ah... Bene. È andata. È andata. Molto bene. Non volevo, ragazzi. Oh, un piccolo dice un bambi! C'è il bambi! Fallo a pezzi. Fallo a pezzi. L'ho ammazzato a pugni. Madonna. Ma si muove da morto? No! Accogli, per accogli, per accogli, per accogli. È proprio walk questo gioco. Eh, sì. Eh, beh, l'ho ucciso inutilmente perché non ho modo per... Allora, dammi qua i rametti. Vabbè, ci sta un po' di... Ma sì, ragazzi, un po' di gore, cazzo, ma... Un po' di peli sul suo stomaco, porca puttana! Ma siamo uomini delle caverne e dobbiamo sopravvivere. Oggetto mano secondaria. Usare gli oggetti nella mano secondaria... Cazzo, ma al crafting non c'è nessuna ricetta. Comincia si fa? Io fa... Tra l'altro fa meglio. In basso a sinistra dicevo fan. Anch'io, ma mi sono appena mangiato delle bacche senza sapere la loro natura e i loro effetti collaterali. Dove che le hai trovate le bacche? Davanti a dove c'era Puck. Bene. Eccole. Allora, sto... F. Raccogliendo pini della marijuana. Non so se stai facendo lo stesso. Oh, chi rulla? Eh? Chi rolla? Non è là. Ok, siamo così. Allora, ho 24 legnetti grezzo e fibra vegetale grezzo. 24 legnetti grezzo. Una camicia della CCTS scadente. Mi chiamerà lo stacco di cosce che hanno le signorine statue vicino al portale. L'hai visto? Come facciamo a giocare? Sì, vabbè. No, no, l'altro portale. C'è un po' con uno stacco di gambe importantissimo. Ma questo... Allora, io ho provato a premere esche e andare su social, ma mi dice puoi unirti a una squadra o crearne una o crearne una. scappa attraverso il portale. Cioè, non ho idea di che cazzo voglio dire. Andrea, scusami, non ti stavo ascoltando non per cattivere, ma perché c'era, ti giuro, Cristo dentro una grotta. I telegrammi raccontano storie di svariate città che muoiono una per una. Dopo Parisi, anche Bruxelles e poi Milano. Attenzione. C'è un ginello chiede la loro insana. Un morribile nebbia chiamata Pallore si leva dal portale di Parisi. Eh beh, quella che c'era stamattina. Sì, sì. è mutato rispetto a quello che era una volta, mentre prima il Pallore era costruito da piccole spire, bla 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 bla. Wow. Le leggeremo poi quando avremo mio... Tragedia nel Milanese. Santo... Wow. Ma ragazzi, ma è incredibile. Ma non ho credito di aver mai visto una grafica così. Un gioco survival, eh? Un gioco in early access, spiegato. Vabbè, la real... Allora, ci serve... Ci serve... Devo costruire. Mappa. Cosa? Andrea, la mappa è enorme. È solo... È solo... Solo sta... No, Jonathan. Per unirti a una squadra o crearne una, scappa attraverso il portale. Forse dobbiamo uscire da sto tutorial. Non lo so, ma adesso... Adesso lui è incazzato. Non so... Allora, sotto di te, in alto a destra, sotto la tua webcam, loro non lo vedono, c'è scritto la missione. Ottieni rocce, legnetti, bacche crude. Ah, grazie. Meno male che me ne hai detto. Allora, rocce... Non è questa. Allora, bacche... Non ho trovato. Vabbè, le bacche erano lì. Legnette 24 di tre, quindi direi che ne ho prese abbastanza. Tieni bacche crude, bacche, bacche. Queste qua. Allora, io le miglia di minuscolo, comunque. Legnetti ce ne sei. Le rocce dove si trovano? Tre. Le rocce si trovano, e questo potrebbe sconvolgerti, per terra. Ah. Ok, bacche crude ne ho cinque su cinque, ma se ne vedo qualcun'altra, perché no? E poi le ottieni rocce. Andrea, le rocce dove si trovano? Per te. Perché non ci sono. Effettivamente un altro reame, forse questa è una roccia, viene definita roccia. Ah, i sassi sassi. No, scusatemi, veramente questa è la roccia? No. Me ne mancano sei. Andrea, io gli sassi... devi pensare fuori dagli schemi, forse rocce sono i conigli. Lo trovate. Il nome per dire conigli, le rocce. Dove sono? Costruisci fuoco da accampamento. Ah, col tasto B si accende il menu di costruzione. Caratteristico classico. lo trovate anch'io. E questo qua è il portale che diceva. Ah, allora dobbiamo fuggire di qua. Il tutorial, sì, questo del tutorial. Astonish. Allora, aspetta. Sono un cretino col... Fabricazioni, nozioni di base. col baffo che corre con in mano delle... Che bello il disegno del... Il disegno del progetto. Fabricazione, costruzione, fabricazione, fosizione, monitor. Focco da cap. Posizione. Come faccio a girare? Così. Va bene qua? Lo metto qua. Lo metto... Davanti al portale. L'hai messo davanti al portale? Io lo metto qua. Ok. E mo? Come si cucina? Aggiunta automatica di risorse. Stimuto E per le usioni. Ok. Quindi aggiunta automatica di risorse. È un casino. Tuture come il fuoco e l'accampamento possono essere utilizzate per cucinare, raffinare o fabbricare oggetti. Banchi da lavoro e le altre postazioni di Nightingale hanno vari punti di interazione. Interagisci con l'area del fuoco d'accampamento per gestire il carburante. Ah, come nella vita vera. Ma che crude, vai. Come si cucina? Una volta acceso il fuoco lo cucini. Il fuoco. Come Conan. Seleziona la ricetta e gli ingredienti. Tanto sto morendo di fame mentre leggo. Allora, quindi faccio così. Faccio ricette. Non c'è. Bacche arrostite. Eh, però in realtà è molto più... Ma che due coglioni! Quanta roba devo cliccare per arrostire delle bacche. Famme ne... Ok, dieci. Gestisci carburante. Mettimi il legno. A questo do trascinare. Andate un po' a cagare, vai. Accendi il fuoco. Estingui. Mangia le bacche arrostite, vai. Quanto ci vuole? Ma sta andando? Sta andando. Sta andando o no? Non so se sta andando. Piante miste. Ma sta andando... Oh, da capo lo devo rifare? Figa che due coglioni. No, non è vero. Cioè, se te l'avrai date. No, ho sbagliato tutto. Quantity, over quality, fabbrica. A posto? Ah, ok, dopo sta roba ti fa... ti dà le carte. Ma che cazzo? Ma ce le ho adesso, le bacche arrostite? Quello che bello, un mammut? Ma non ce le ho, dove sono? Ah, raccogli oggetto. Ce le ho adesso? Ma, ma mincazzo, eh? Ok, credo di aver... Ah, sì, era su sei. Ma aspetta, che cazzo sono queste? Sono le bacche arrostite? Sì. Ok, a posto. No, ma fermo! Ma le ha mangiate tutte! Piante miste, nuove scoperte. Fa parte della missione. Adesso tu qui ti dice bravo. Io a me piacere sparmiare. Ma dietro di me c'è pu... Che ansia! Andrea, ho aperto l'inventario, guarda, se l'avevo dietro il culo. È un maniaco male, proprio. Guarda! Sono una persona malissima. Le corna. Io la ce le sai dove ce la vedo bene la maschera che ha Puck? Non credo di scambisti. Hai evitato l'imbarazzo a giudicare dal tenace profumo il tuo pasto non era certo un banchetto della corte d'estate, ma almeno tu persisti. Tu persisti, signor Ender. Mi sa che è lui allora, la gente sminca. Non andiamo avanti finché questo sentiero è lineato con un altro che dovrebbe avvicinarsi alla necessità di entrambi. Intanto ci sono dei cervi che si accoppiano lì sulla spiaggia. Ok, la tenda di legnetti. Vabbè, andiamo al portale. Grande. La tenda di legnetti è grande con palazzo a cinque piani. Quindi mi ha dato nuova roba da metterne là nel reame? Eh, Andrea? Eh, yeah. Sblocato tipo la carne... No, t'ha dato le carte... Quella carta è diversa, è tipo il deserto. No, io ho sempre... Non ho alcun'altra carta, io. No, è diversa quella carta. Ti fa spawnare in un deserto. Non è la corretta. Tu sei già nel deserto? Hai ragione. Sì. Questo che... Carta del reame... Carta del deserto. Oh, nice. Cos'è quella roba? Quando è che possiamo giocare insieme, Andrea? Eh, non lo so. Vado, eh. Allora, dopo... Io devo essere sincero, però. Dopo in Shrouded, che fa della sua semplicità al suo punto di forza, i survival troppo complessi alla Conan, però comunque questo è affascinante per... Hai ragione, però io ti faccio questa domanda che mi hanno fatto a me in chat. Perché bevi? Sarà mica per sostenerti? Perché, 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 perché sì. Che necessità c'è di respirare, ragazzi? Per me è l'ossigeno che ci uccide dopo 80 anni. Senti caldo? No, no, no. Ah, la domanda. Mi sono messo all'ombra. Eh, Puck, se ti sposti anche tu all'ombra, per favore, che mi viene un'insolazione. Che belle sti, sti baobab rosciche. L'estate scorre nel mio essere come il sangue scorre nel tuo, sia un po' meno, eh. L'orugiata è il sudore che fluesce come i fiumi nei nostri deserti. Quindi è un re, è un rete. L'inistrare gli elementi fa parte della folia dell'attraversare Ami. Un piacere ricercato della vittoria sull'ostilità. Ti piace o no, senza un riparo, senza strumenti per definirlo, non durerai a lungo. Va bene. Ok, manca sempre un legnetto. Allora, mentre cerco il prossimo, devo costruire. Ma tu costruisci una tenda di legno. E che ci vuole? Eccola qua. Legnetti 12 e fibra vegetale. Posiziona. E la madonna enorme, Andrea! È gigante, te l'ho detto, è gigante. È un palazzo a cinque piani. Ma che cazzo? Vabbè, la metto qua, che vi devo dire. E allora mi serve... No, non ce l'ho più le bacche. Quanti legnetti mi servono? Tanti. I romdi suggeriti, tutti quegli alberelli l'intorno. Aggiungi roba automatica e quello l'ho messo. Io devo mettere i legnetti. Ma che belli! Ma sti alberelli sono bellissimi. Ma che grasso questo. I baobab. Sì, sì, sì. Che carino, mi piace. Basta con sti legnetti. Non ti permette. Quanti legnetti servono, Andrea? Tanti. Io ho tipo sverginato la foresta. Io sono già senza cibo, comunque. Lo facciamo anch'io. Aloe da capo, fiore. Può mangiare? Oh, c'è un ragno... Un ragno mannaro lì! Benissimo, Andrea. Adesso arrivo, eh. E ti affacci dal crinale a dove sei, vedi? Un ragno mannaro. Un ragno mannaro. Sento caldo, mi dice. Che cosa cazzo è? Hai visto? È tipo un albero. No, sono alberi! Eh, gli alberi di camminano. Che figo! Ma dici che mi attacca? Non lo vorrei scoprire, in questo modo. Ma che meraviglia! No, mi piace un botto sto gioco. È il design omirico. Guarda, c'ha anche le mammelle per mungerlo. Il latte di acacia viene da qua. Guarda la faccia! Io mi attaccherei le mammelle nel dubbio. Trascinami, portami! Ma che meraviglia! Ma non senti canto se stai sotto di lui! Eh, certo. O sono pazzo io? Ma ho visto adesso che ci sono dei blocchi che volano. Sì, sì, avatar. Quello sto biondo. Credo di averlo incazzato. Di averlo incazzato. Di averlo incazzato. Mi sa che l'ho fatto incazzare, ragazzi. Allora, sono assolato, assoldato. No, sto per avere una sincope. Incazzato. Ok. Ma volessi... Senti i suoni che fa per il caldo. Il mio personaggio fa... Non posso mangiare più nulla, Andrea. Sono nella merda. Eh, manco io. Non so quanti legnetti servono, tra l'altro. Questo deserto fa schifo, vedete? Cioè, mi dispiace per le civiltà che sono riuscite a sopravvivere. Complimenti. Perché è deserto, perché è deserto. Bene. E mo? Sacco a pelo. Poi? Una fetta di culo. Posiziona. Eh, e mettiamo sto sacco a pelo. Lo mettiamo qua. Tu isengard. Eh? Tu isengard. È un ent. Aggiungi risorse. Mancano cinque legnetti. Ci sono dei vasi che fluttuano lì. Ah, ma adesso se vai in social non puoi invitare il maestro, vediamo. No, ho già controllato. Non c'è niente, ragazzi. No, dice che dobbiamo fuggire dal portale, ragazzi. Evidentemente questo è tutorial e forzato. Dobbiamo giocare per forza. Eh no, perché è molto per il meglio. Vabbè che le meccaniche di survival sono le stesse da vent'anni, però in ogni gioco ci tengo. Però posso, ragazzi, fare un applauso al fatto che questo gioco è in... Fatto con una real engine, con una delle grafiche più fighe che abbia mai visto, ok? Già dall'early access. Sembra un triple A. Non ha un calo di framerate, manco a pagarlo. Cioè, in questo preciso istante io sono a 60 framerate in 4K e sto anche stremmando. Cioè, allucinante. Wow, veramente bravi. È ottimizzato da Dio. Bravi. Vabbè, questo è merito della real engine, però. Ti stai surriscaldando. Terra Lore. Dino hai caldo? Quello in generale, ragazzi, perché sono uno molto... Sono uno che soffre. Sei caliente. Sono uno che soffre, effettivamente. Cibo, bisogna dire cibo. Vabbè, fammi andare a costruire quel cazzo di letto che poi dopo ovviamente ci fa andare verso il portale. I effetti benefici del riposo aumentano man mano che il livello di comodità del tuo giaciglio aumenta. Comfort come luce, riscaldamento ai mobili grazie al cazzo. Ma allora si può mangiare. Il riposo richiede il livello minimo di comunità, costruire sacco a pelo al riparo fa sì che grazie. Ma faccio il riposo breve adesso? Riposo. Sei più avanti di me. Mi hai superato. Boh. Fabrica un'ascia di legno rudimentale. Va bene. Fabrica un piccone del minatore. Va bene. Fabrica un coltello da caccia rudimentale e fabrica una falce rudimentale. Come le fabbrico queste robe? Fabricazione. Asso rudimentale. Legnetti, legnetti, legnetti. La fibra vegetale per sé. E dove la trova la fibra vegetale? La fibra vegetale la trova. È le age spune, age spune. Spavento, che cazzo è stato? Drakes ha preso la maglietta, grande, grande. Ragazzi tra l'altro stanno per arrivare a nuove magliette. Sì, ritorneranno. Adesso metto sotto la vale, che è lei che le fa, e la costringerò ovviamente con la forza, e sarà costretta a 24 ore su 24 a fare magliette, immaginatevi. Sarà solo colpa vostra che comprerete le magliette e quindi autorizzerete questo tipo di atteggiamento di sfruttamento della vale. Sarà solo colpa vostra. Dino mangia? Ragazzi che cazzo mangio? L'albero che cammina? Non c'è niente? Il deserto? Cos'è quello? La sabbia. Andrea. Cos'è? Andrea. Sì, ci sono dei vasi fluttuanti, sembra un Pokémon. Ma che cazzo? Ah, c'è così, 5. Me l'ha già fatta, è incredibile, non c'è manco l'animazione. Cosa sei tu? Che sta succedendo? Credo che se gli attacco muoio all'istante. Non è probabile. Ma che malattia malata? Cioè, ma che malattia? Ah, mangia la loida campo. Che malattia malata. Mangia la loida campo, ti li dà cibo. Ah, grazie. Ci te ne dà pochissimo, devi già ne 70. Eh, forse va cotta. Vabbè, io lo sto mangiando cruda. Eh, figurati, figurati. Allora. Allora, coltello o bel figo? Il coltello bel figo è il coltello. È la fibra vegetale, non riesco a trovarla. Nei cespugli rossi, quelli. Vai oltre, vai oltre dove ci sono i vasi. Dove ci sono i vasi? C'è un altro bosco dove c'è il portale che dovremmo usare. E' pieno di cespugli. Che cazzo stanno facendo? Ma esplodono questi affari. Guarda, dei fiori lini. Quindi noi possiamo vagare da un portale all'altro per avere anche delle risorse differenti. Possiamo creare praticamente i biomi a comando per andare a farmare un tipo di risorsa. Con le carte. Guarda come l'uomo sdradica. È la donna ripianta. Si appropria di ogni... Eh? È la donna ripianta. Esatto. Allora, ha lasciato rudimentale. Fabrica. Ok. Che cazzo è quella roba? Coltello di rudimentale. Ok. Quindi falce, coltello. Ho fatto? Allora. Sì. Fabrica piccone. No. Fiacola. Fatto. Piccone del minatore. Fa. Ho tutto. Cioè posso già far tutto. Falce. Mancano le rocce. Fatto tutto. Non mi chiederò le rocce. Attrezzi e risorse e raccogliere. Le risorse di base possono essere trovate e raccolte nei reami. Queste risorse possono essere utilizzate per fabbricare oggetti e raffinare affinché diventino bla bla bla. Utilizzando gli attrezzi puoi raccogliere del reame risorse migliori con qualità specifiche. Immagino che con il piccone raccolgo... Allora F, allora B, piccone. Allora coltello c'è, lascia c'è. Falce. Vediamo un po' com'è fatto. Bella anche l'animazione. Mi mancano piccone e fiacola. Bello il piccone. Dammi l'ascia. Bella l'ascia. Vediamo un po' com'è. Ah la falce le prendi più. Andrà, gli alberi sanguinano. Anch'io c'anguino. Sto facendo 31 di danno a un albero. Mi stanno incazzando quella. E tu che hai fatto? Sì, adesso ho gli altri alberi, immagino che. Oddio. Cade. Cade. Che è? Niente andrà, niente. Ma ho un peso nell'inventario? Sì. Sono 40 chili su 50? Bene. Seme calendula. Oh che bello. Ma se tiro un'ascia a pucchi in faccia? Immune. Bene, Andrea, è un dio. È un dio. È immune. Allora, io devo fare 6. No, era F. Che cazzo fa? Ma... Oh, posso andarmene dal deserto. Che sta succedendo? Torna da pucchi. Andrea, non so come togliermi le armi dalle mani. Se volessi togliere la faccia... Sì, allora, sotto. Io fai... Premi 6, ti levi la fiaccola. Ah, no, non è vero. Eh, no. Ah, beh, tienile. Che cazzo devo dire? Ma perché sei fatto così? Cioè, non hai neanche voglia di provarci. Carta della parude, attenzione. Eh, no, non mi toglierà la fiaccola. Ma scusami, ma che cazzo vuol dire? Vabbè, fai niente, fai niente. Con F la lancio. Con X? Cosa cazzo se viene vero? Con X togli... Non fare un cliccare X perché sennò vai nel panico perché scompare tutto. E ragazzi, ma che vi devo dire io? Roba G, dicono. G? No, no. Q, E, R. Vabbè, sti cazzo. Parlo con Pucchi. Mi era sfuggito di mente che le grandi cittadelle della terra fosse il risultato di decenni di duro lavoro. Tuttavia mi aspettavo qualcosa di più di quel misero fascio di bastoncini. Quella modella di fortuna di costruzione. Ma di lungo c'è anche della lore. Di quello una maggiore abilità nella lavorazione del legno. Non roviniamo la sorpresa. Partiamo e non parliamo più delle tue sgrazianti costruzioni. Ma va affanculo, Puc. Va affanculo. Sì, sì, sì. Acqua. Ti stai bagnando. F e l'ero F hanno consigliato. F di torta. No, F lancio la roba, ragazzi. Ecco. Avete visto cosa avete fatto? Perfetto. Eh, però effettivamente l'hai tolto. Sento similare. Aspetta che c'è qualcosa qui. Alla fine è giunto il nostro momento. Il pallore circonda Milano. È un muro opprimente che inghiotta gli edifici. Fa molto ridere. Che avanza implacabile. Le evacuazioni sono cessate. Non ci sono più coste da cui fuggire. A Milano? Le famose coste di Milano. Esatto, esatto. Non sa cosa... Nessuno sa cosa succede quando il pallore coglie. Io me ne sto qui. Attenzione. Ci siamo. A Muggiano. Le grida risuonano mentre... Vabbè, ragazzi, sti cazzi. Vaffanculo. Partiamo. Comunque entra nel... Entra nel... Io faccio quel cazzo che vuoi dire. Entra nel portale. Nuovo bioma che è? Non ho letto. Palude, palude, palude. Il pallore è lo smog, sì. E credo che la metafora sia... Sì, è una metafora... Una metafora... Dello smog. Stare nell'acqua della palude per troppo tempo può portare a contrarre delle piaghe. Ah! Dino, guarda la faccia del personaggio. Del mio personaggio. Sai, l'ho fatta io, quindi... Cioè... Mamma mia, mamma mia. Sei pronto? È bellissimo l'impatto. L'impatto iniziale, guarda. Ma, ragazzi, penso che sia visivamente una delle cose più fighe stagione. È incredibile. È un'opera d'arte. Però mi piacerebbe giocarla anche in terza persona. Oh, però non ho toccato, cioè, sinceramente... Ma si può che... Questo viaggio sarebbe stata una passeggiata e noi fate evitare... Ah, lui è una fata, dico. Sì, sì, lui è... I legami fanno la guardia agli archi delle fate che si allineano con i reami temporali. E c'è Puk, ecco. Anche se so che l'impulso dell'uomo è quello di fuggire senza coraggio morirei sicuramente. Grazie mille, grazie mille. Preparati a te, ossia, da una creatura uscita. Una volta che questa palude sarà la nostra scia, ti lascerò in eredità un buon pezzo di conoscenza. Davanti a noi si trova l'errigo del futuro dell'umanità. Non ho capito nulla. Allora, ottieni ossa e ottieni pelle. Beh, dove è andato? Che cazzo è quello? Un drago? Eh? Ah, no, una roccia. Andrà però... Veramente una visita... Eh, ho capito, però una visita veloce. Ottieni ossa, predatore di grado 1. Ah, ah. Lo prendo a picconate in faccia e sarà mio. Ah, intanto vediamo com'è. Minchia. Bene. Abbiamo anche la pietra. Eh, anzi, vado di... Ecco là, un predatore di grado 1. Devo ammazzare un predatore... Quello è un predatore di grado 1. Ho che stare nell'acqua, ho che stare nell'acqua, vediamo la piaga. C'è un canguro. Che brutti lupi! Ma sembra buono, sto canguro. Sono magrissimi. Ma posso costruire altro? Tipo delle lance? Che stai facendo? Tu sei un predatore di grado 1? Scusi? Eccolo, un wolf di grado 1. Ah, un canguro. Ma sei creativo! Stai buono. Che vuoi? Che fai? Salti? Dov'è la fassa? Quanto cazzo l'è? Qual è la fassa e qual è il culo? Mani in alto! Crepa, bestia! Voi! Ma sono belle anche le creature. Devo dire che anche il combat system Andrea è fatto da Dio. Hai visto come accusano i colpi? Accuso i rocchi? Allora, lo scuoio. Il scuoio? Eccoci qua. Mi ha dato un taglio perfetto. Carne e ossa. Allora, ho tenuto pelle e carne da un predatore. È soddisfacente in una maniera... Ah no, la carne non è in omissione. Devi solo prendere pelle e ossa. Ma la carne però male non fa. Vabbè, la carne si può cuore. Sì, sì, il combat system è figo, mi piace. Immune. Non si può rompere. Qui c'è dell'acqua che... Mi ha detto di non entrare perché rischiamo di prenderci delle malattie. Vedi, vedi, se entri, vedi che c'è un tipo una barra verde che si carica nel tempo. Allora, da bravo barbone quale sono? Mi aggiro con una torcia in mano e un coltello fatto di... Di pietra. Di pietra e sono pronto veramente a... Che spavento! Ai predatori. Grazie, Black Flag, grazie, bestiasse. Cos'è questo? Un predatore di livello 1? Oddio! C'è un porcellino, Andrea, c'è un piccolo kiwi! È un fallo, fattelo, fattelo. È andato. Ma è un predatore di livello 1? No. Ragazzi, siamo qua per... Oh, cazzo. Ti salvo io! Ma come sono fatti? Minchia, che dolore! Ma la, fanno qui, c'è fuori! Li fai più danno col piccone al canguro, eh? Eh? Ti faccio più danno a me. Minchia, lo sciotti qua. Però il piccone è molto più veloce e le va molto di più, le va a 20. Ok, due di tre, devo ammazzare l'ultimo. Con il coltello lo scuori. Ma io sto usando l'ascia, l'ascia in faccia gli... Ah, con le due mani? Eh, certo. Bravo, 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 bravo. Malattia? Bene. Era comparso per un attimo una barra di malattia che stava avanzando. Nell'acqua, nell'acqua. Le mangrovie, quasi. Ma che bello, mi piace, mi piace. La palluda è per adesso la mia preferita. Mi sento... Mi sento proprio... Ti senti a casa? Guarda, sono io il predatore. Sei tu il predatore di livello 1? Il tuo inventario ti appesantisce. Ho ucciso. Che bello che qua, a differenza di Valen, ti dice, ti dà l'avviso. Hai poca resistenza, non puoi colpire. Ok, ho preso tutto. Fabrica il coprispalle rudimentale. Ah, ok. Che bravo. Allora, però leviamoci da qui perché ci sono altri predatori. Devo capire come togliermi sta cazzo di... No, mi sa che non si può togliere. È una stronzata, però, scusami. Non si consuma, se guardi giù. Cioè, io ce l'ho da prima, non si è ancora consumata. Dici, e perché me la metti in automatico lì, scusami? Non lo so, per far luce, a volte. La metto su zero. Bravo, bravo. Magari se te la levi dal... Allora, vediamo un attimino come faccio a fabbricare quelle altre robe lì. Fabricazione. Cucina. Bacche, carne e piante. Allora, intanto ci facciamo una bella... Perché sto morendo di fame. È vero, un bel canguro arrosto. Mi faccio un bel focherello, che secondo me ci sta. Mica che infarto! Ma sei cretino! Ma bacca! Ma pezzo di me! Ma muori! Che è successo? Horror night? Oh, guarda qua. Occia! Che c'è? Ma va, ma qua, stai zitto anche tu, guarda. Che c'è? Fate tutti simpatici, vi divertite. Ah, le rocce, minchia. È come lei la corda in enshroud. Ma in Australia, mi dicevano. È bella, mi dicevano. È bella l'Australia. Io ci sono stato quando mi hanno arrestato. Ma che stai dicendo? Che non hai messo piede oltre la contea. Ma che cazzo dici? Sono stato in Australia, dall'altra parte del mondo. È proprio vero. È proprio vero. Con ferro, la quantità 4. Accendi fuoco, direi che ci siamo. Chiudi e fabbrica. Oh! Quindi è fatta, no? Quindi io cosa cazzo devo fare? Ah, sta cucinando, però devo aspettare. Eh, merda. Vabbè, mi... Spendo di legnetti. Ma perché se tiro fuori il coltello, mi tira fuori la torcia? Sta cosa mi fa incazzare come una belva. Piscina. Ma pericò è un coprispalle rudimentale. Dove cazzo è il coprispalle rudimentale? Ho perso vita? Vite? No. No, c'ho 50 tondi tondi, ragazzi. Tieni healing salve, che non so che cazzo voglio dire. Ma avete mai visto questa scena? Andrea, tu hai mai visto questa scena? Guarda il monitor. Una scena con un pelato, con quei baffi e un ascio in mano. L'hai mai vista questa scena? È palesimente gratos. Sì, sì. La torcia, mettila su 5, che corrisponde alla mano destra. Ma... Ah, quindi questa è la mano destra e l'altra... No, non si può fare, ragazzi. Estrai. Non si può fare. Vabbè, sti cazzo. Fabbrica coprispalle. Allora, intanto devo fabbricare il coprispalle. Ma per farlo cosa... Ah, devi premere col sinidestro nel menu principale e fare disequipaggio. Non ho capito nulla, però aspetta un attimo. Allora, fai I, inventario. Mi sono fatto il coprispalle, aspetta, aspetta, aspetta. Allora, coprispalle è questo qui, giusto? Sì, te l'ho giocato. Ho immaginato a me. Ma cosa cazzo è sta roba? Vabbè, ho un coprispalle, ragazzi. Lasciamo perdere e... Però vabbè. Quindi, cos'è che devo fare? Allora, devi andare sulla torcia a fare col destro, cliccare col destro a fare disequipaggio. Disequipaggio. Buono. Oh, va che bello. E se la volessi equipaggiare la devo per forza mettere lì. Eh, sì. Ma che stronzata. Allora, bisogna cuocere la carne, la missione di dopo. Raccoglio oggetto. Ottieni carne arrosto, già fatta. Ottieni... Healing salve. Cosa vuol dire healing salve? Healing salve? Cosa vuol dire? Non lo so. Intanto me la magno. Penso sia una pianta. La salve. Ma, ma è come... Cazzo, sta meccanica l'hanno copiata completamente da... Da cosa? Da Valheim e l'hanno ormai fatta loro a tutti i videogiochi. Anche qua, se magni, ti dà più vita. La barra della vita aumenta. Ma che Valheim ha avuto il suo successo per un motivo ben preciso. Bravi, bravi, bravi. Healing salve sarebbe... Healing salve sarebbe ossa e fibra, mi dice. Se vai nella cucina. Vai nella cucina. Cioè, tipo, la ricetta healing salve. Aspetta, allora. Fabrico oggetto, healing salve. Ossa, fibra. Che sarebbe la bel B, penso sia la benda. Ah, no, probabilmente è un tipo di... Di... È un impacco curativo, è una benda per... Sì, una benda per curarsi. È healing salve. Fin qua. Fabrico oggetto, ma me l'ha dato l'oggetto? Healing salve, è quello lì, zero. Lo devo usare? Ottieni healing salve. Devo farne tre? Siamo deficienti? E otteniamo tre healing salve. Due, ok, fai. Beh, le osse non mancano. Me li ha fatti? Me l'ha fatto o no? Allora? Raccoglio già. Voglio un po' di te. Un po' di te. Come nella vita vera, ragazzi. Come dopo il ristorante, no? Che ti senti appesantito, ma è invincibile. Eeeh... Oh, leviamo sto... No, quella cazzo di roba di canguro fa cagare. Ecco, sì. Allora, attacco in salto esiste? Proviamo. Esiste. Minchia, che male. Pezzo di fan. Sono molto più veloce mangiando. Ma hai visto? Ma sto gioco... Sì, sì. Potenzio. Sto gioco è eccezionale. Mentre Twitch contestualizza, per favore. TikTok, quando ripubblicherò la clip, per favore bannami, definitivamente, perché ho sbucciato una creatura realistica. C'è un cazzo di ragno canguro, però, sai, la gente è sensibile. Però, Minchia, il mio PC... Il mio PC... Il mio PC penso sia a 80 gradi in questo momento, lo sento che mi sbaffa caldo sulla camera. Ma è salita l'acqua? Sì. Cioè, è salita l'acqua, ragazzi. E mo? È finito. Ma che... Che figata! Esattamente dove ho messo io il fallo, è proprio sfigato. ah no era qua il falò ma allora questo cos'è? no ma penso c'era semplicemente un'altra parte della macchina no 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 c'è un altro fuoco c'è un altro fuoco il tuo gioco è pazzesco lo voglio si ragazzi questo 2024 sembra un miracolo ma perchè li hai messo nella media? qual è il problema di sto l'ho detto perchè l'unica recensione che hai messo nella media sono per i problemi a quanto pare di walk policy che cazzo vuol dire? perchè c'è scritto se il genitore 1 o il genitore 2 ma sti cazzi per una roba del genere devi dire che il gioco è brutto cioè siamo state veramente perdendo il senso il senso della vita proprio allora io sono il primo a dire che queste cose che riguardano la politica non vanno messe all'interno dei videogiochi perchè sono d'accordo anch'io che siano fastidiose e completamente inutili però non mi sembra giusto neanche sminuire un gioco perchè c'è una scelta così del cazzo da parte di sviluppatori cioè chi se ne frega ottieni polvere di essenza ci siamo che cazzo vuol dire? eccolo il walk qual è la polvere di essenza Andrea? ah no devi andare sugli oggetti nel tuo inventario e fare estrai sempre premere col destro ma che stai dicendo? che devi tipo riciclare fai inventare o fai sul destro tipo sulla pietra ah risultato polvere di essenza come l'hai scoperto scusa? non lo so cliccando a casa quanta polvere di essenza serve? 4 decine? vabbè io sto distruggendo tutto riparare oggetti usa la polvere di essenza per riparare gli attrezzi fico magnifico ripara ah qua praticamente non ci vuole un banco da lavoro ma puoi distruggere un oggetto che non ti serve e riparare un altro beh ci sta carino ah posso figo allora facciamo così ripariamo l'ascia che è quello che ho usato di più il piccone ah ti fa scegliere la prima vera mappa senza tutorial oh quindi forse possiamo giocare hai strappato la vita per preservare la tua una necessità finché non diventi un vizio guarda guarda dovrei scegliere la nostra mamma benvenuto dagli uomani bevuto dagli uomini come vino di tarassaco ti ho fatto fare il giro attraverso paludi attraverso cespugli applichiamo la nostra essenza anteriore le parole non servono immagina una foresta immagina un deserto immagina una palude immagino immagino una foresta come vogliamo fare una foresta come il primo nostro biome ma si play your cards but beware apri il portale avventurati in un rame del disuso come mi hai chiamato dove cazzo dove cazzo è il portale dove il portale allora comunque immagino che siano mappe vedete eccolo qua forse questo è il portale l'ho trovato mappe che semi a pece open map non è open world quindi credo si possa che cazzo non voleva ammalarmi invece un piccolo di lombrico ti stai bagnando malattia eh che ci fa ah si sono praticamente sono delle piccole mappe perché sembravano grandi ma sono delle piccole mappe ristrette dove tu entri con le carte è come other worlds otherwise eh si cioè concettualmente è così è figo il concetto ci sta vuoi questo? mi mancheranno i canguri sai fare di meglio? ridicolo però c'è questo bug che secondo me è un bug il fatto che ti faccia ti mantenga se tu metti qualcosa sul 6 te lo trovi in automatico in mano no eh si te lo trovi in automatico in mano è vero disequipaggia a me sta cosa mi turba l'anima mi dà veramente fastidio vabbè allora il portale eccolo lì ho trovato ho vinto mi ricorda Conan Exile beh ragazzi ora con tutto il rispetto per Conan Exile che brutti che brutti buono che cazzo è? che è un gioco bellissimo però i goblin come i goblin? ma spoiler mi raccomando dicevo che è un gioco bellissimo Conan Exile però questo indubbiamente si vede anche dai primi 5 minuti di essere superiore scusatemi con tutto il rispetto oh guarda cosa c'è qui perché poteva avere gli schiavi no non farmi sapere di Milano mentre mi ammazzano i canguri dai ah c'è pure dello smembramento allora metti la carta del reame foresta molto blackborniani insi nemici la carta del reame carta disuso perché c'è del sangue sulla carta del disuso gioca questa carta per creare un reame con pericoli irrisori adatto alla costruzione di una proprietà neppure i maghi più anziani di Nightingale sono è il nostro hub praticamente che cazzo vuoi ma cosa cazzo vuoi lasciami perdere ma che cazzo ma basta allora io vorrei mangiare mangiare la carne ah ti cura pure la carne andiamo se ne hai aperto il portale mi sa l'ho aperto l'ho aperto voglio entrare così ti invito giochiamo ma non so che cazzo ma stia sta aprendo devi premere R mi sa che non l'hai aperto che sta succedendo no l'ho aperto che cazzo è sta roba oddio vaffanculo non mi toccare sai che sono sti cosi i legati si chiamano e beh giustamente sono legati sono alti però puoi anche tracciargli un braccio che ho detto posso partire un braccio ma se faccio il colpo caricato esiste sto facendo un sacco di di edge shop di maranza si ci sono io ho rotto un braccio c'è Milano c'è Milano nel gioco incredibile ragazzi incredibile e loro lasciano resti Milano Lore resti dei legati ma c'è dietro di me che bello che si apri il menu vedi cosa c'è alle spalle ma ancora quando muoiono mi sono nel portale porco due e ma c'ho anche i canguri dietro il culo oh abbiamo finito un tutorial corri dai corri 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 prendi i resti dei legati levati dalle palle vattene non entro nel portale Andrea che cazzo devo fare devi uccidere devi aprire li ho uccisi vai a quel cazzo di leggeo e fai ieri adesso sei aperto finalmente ma non sei un cazzo l'hai appena fatto e non sei un cazzo guarda guarda Puck mi ha appena detto suca comunque ho sentito benissimo palermitano probabilmente night in gale bello ragazzi fresco di zona prosegui via sono 43 nel traversaria mi possono curare i propri giardini scusatemi coltivare utilizzando la propria urina adesso posso invitarti già lo sai Daxin io ti devo vedere sabato ti devo abbracciare ti devo ringraziare per quello che hai causato Puck già lo sai e niente per aver ripristinato un po' l'ordine naturale delle cose si si per averci dato un caso sbelli prosegui il viaggio oh Puck hai rotto il cazzo hai detto ti abbandono per sempre non ti voglio più vedere mi compari ogni dieci minuti un fungo via dice Puck hai lasciato il centro alle tue spalle va a faccio ecco un posto dove puoi mettere l'alice a breve caleranno le tenebre con esse pericoli stingianti a breve caleranno le tenebre se provassi a invitarti cosa succede? l'oscenza è che ho promesso allora vediamo un po' social ooooh cerca player fai tu fai tu inviti non ha inviti recenti nel reame non social attualmente non fai parte di nessuna squadra inviti pubblici forse a steam forse bisogna farlo che cazzo è sto qua? ah sono io no perché c'è c'è Mary Pop iscritto him sopra mi fa un po' ridere Andrea è la tua carta no no ma l'ho scelta proprio io questa carta è proprio la mia vabbè ti invito da steam prova prova ah qua c'è del ferro guarda allora Andrea him invita a giocare vai bravo Andrea walk oh nuovo nome del maestro invito in squadra Andreina ti ha invitato in una squadra ma se l'ho invitato io ma l'hai invitato tu che cazzo sta dicendo? vabbè accetta ho accettato ho accettato anch'io non so cosa sta succedendo diciamo in squadra prima di tutto fuori portata crea squadra rimuove invita prova a fare invita nel reame sotto vai su social ah invita nel reame eccolo qui vai è arrivato? si 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 oh la un online che funziona incredibile tra l'altro senza intoppi c'è proprio liscio vabbè che stanno giocando tutti a il dive siamo gli unici al mondo a giocare a social ma devo dire che a me mi staggare mi rilassa molto si è fico è fico ci sta ci sta te l'ho detto nel 2024 ero solo giochi belli quello che cazzo c'è una carcassa vado a vedere una roba andrea perdonami oh ma è pure diversa la mappa c'ho roba diversa che cazzo è sta roba è una carcassa? quindi sono procedurali questa è l'incudine di surtur ma che bella voglio vederti dal vivo vieni raccogli? cosa raccogli? arrivo andrea aspetta cosa ho preso? a rocce mica andrea ma come cazzo sei nata male però a me dispiace veramente tanto l'ongilinio l'ongilinio però è allucinante vuoi un piccacche? ok si ti faccio male non ci provare non ci provare ma guarda che veramente poi vieni a farti un tuffo con me ah ricordati che ho 16 anni posso lanciarti le pietre? il tuo inventario ti è pesantissima non c'è problema bagnato mi dice pelle di predatore ok allora butto via questo estrai così siamo a posto no vabbè effettivamente c'ha del suo ha qualcosa di diverso dagli altri survival si si ci sta qualità di vorresti aspetta no al muro questa che cos'è a rocce si vabbè non ci può spaccare qui qua vabbè qui si ma ripara carino sto metodo mi piace un sacco il metodo di costruzione invece di andare al banco del lavoro per ripararlo esatto dobbiamo scegliere dove costruire la nostra guarda qua su questo golfo ti faccio vedere qua mi sembra finissimo 10 metri vuol già costruire qua non so se hai notato che qua c'è un qualcosa vieni a vedere cosa c'è qua però voglio con vista mare c'è una carrozza andrea vediamo non è una carrozza è un treno merch cos'è questo raccogli c'è un infante avvolto tra fasce di banano wow tarzan cos'è che era cosa ho preso infante avvolto tra fasce di banano incredibile wow incredibile sei guarda c'è un fuoco lì ho sbaglio ma posso salire c'è un fuoco lì ho sbaglio guarda ma che bello ma è per giganti sto posto vieni qua ho capito fammi godere fammi godere fammi godere vabbè lo prendo io porca troia moschetto di piombo bello come moschetto di piombo eh te l'ho detto cos'è che c'era moschetto di piombo aspetta che sto salendo su sono in inghilterra tutto un tratto andrea si può salire sopra volendo no ho avuto l'ora di cambiarmi sto sta pelle di dino che abbiamo addosso allora dov'è sto moschetto di piombo no ma non ah stavo per dire spara il cervo vabbè allora io direi che qua la casa si può fare c'è anche ma perché qua fa cagare in mezzo al bosco porco due ma come nebbia trassetto parigi costo direzione costo ma come fa cagare ma va che roba come fai a dire che fa cagare è tutto bellissimo mi ricorda per certi aspetti skyrim ma non è vero tieni premuto cosa cosa cazzo ma però la torcia ci starebbe porziere fatato tieni premuto ah che pirla deposito oggetti apri vanno anche una scatola c'è una carta pesante me la prendo una pozione curativa leggera fatta con una conchiglia una pozione di guarigione leggera e un amuleto 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 cavallo cavallo gli amuleti i vestiti e gli oggetti tenuti da mano ok quindi possiamo metterci gli amuleti per potenziare questa roba che la mano sinistra si accende in automatico qualsiasi cosa raccoglie mi sta dando fastidio questo amuleto offre a chi lo indosso una maggiore possibilità di recuperare essenza durante la pesca vabbè ah è vero che c'è pure la pesca ma lo posso indossare c'è un animale malvagio lì girati che cazzo è dietro di te la donna tu no dietro di te girati che cazzo del malè è un lupo ciccione è un lupo ciccione è un lupo ciccione smorto bianco lupo bianco che grosso mi ho preso tensi che lui è morto mi chiamagli le mucane l'ho ucciso devi provare provare i picconci cricket olè ok scuiamolo incredibile ok ragazzi ovviamente si tratta di un gioco a parte che c'è scritto che uccidere dovrebbe essere solo strettamente necessario però effettivamente è stato strettamente necessario allora tu donna ti occuperai della cucina della raccolta ah ok no la raccolta la caccia l'ho già fatta io ma la caccia è una cosa siccome sto morendo di fame tu adesso mi fai un follow me lo fai qui io intanto faccio una tenda va bene va bene proprietà tumulo di proprietà perfetto allora partiamo ah è vero il tumulo di proprietà partiamo con una tenda tra le rocce però aspetta partiamo con una tenda e la mettiamo qua così siamo a posto allora dammi una roccia aggiungi risorse automatiche oh là a posto e qui l'abbiamo fatto buono Andrea purtroppo ci dobbiamo accontentare di starlo sto svenendo dalla fame però teoricamente dove cazzo le rocce picconabili dovrei avere se non sbaglio del cibo andiamo è la carne di prima infatti mi sono mangiato un sacco di roba lascia cadere se consuma ok prendiamo le rocce mi sto rifacendo anche la vita mica sono messo male sono messo sono messo male ragazzi sono messo male guarda la canapa indiana che c'è qui ok mi sono curato mi piace mi piace è veramente bello ragazzi cioè ti dà un ottimo feeling ed è sempre una questione di feeling il feeling è importante allora poi vi costruisco ci costruisco guarda come si gira come si gira con la rotellina con la rotellina con la rotellina guarda che lo metto perpendicolare allora attenzione Andrea c'è un po' d'aria in questa tenda effettivamente però noi non ci la mettiamo ecco aggiungi risorse aggiungi risorse questo l'abbiamo fatto e poi costruirei appunto il tumulo di proprietà che non so che cazzo serve aia ma sempre dietro il culo mi devi fare il fuoco ma tuffati un cazzo cosa devo fare ti sta deturpando il personaggio ma porca putta ogni cazzo di volta che giochiamo un survival sto cretino mi posiziona sempre il fuoco dietro il culo god over un po' god over god lo metto qua il tumulo vai 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 io mi diverto comunque ti diverte aggiungi risorse automatiche blocco di pietra e rocce madonna è enorme però eh ma boh vabbè le rocce se vuole te le aggiungo anch'io vai ne ho aggiunto un po' vediamo se il blocco di pietra ok se vuoi cuocere la carne il fuoco è legame no ma sì ho già mangiato abbastanza mi sono mangiato 200 proteine bravo bravo dove andare dovremmo dormire ma c'è altra roba infusione della saggezza furtività quella la voglio cos'è questa infusione della saggezza applica nessun oggetto posizionabile da applicare quindi queste robe si possono applicare i vestiti ho trovato un oggetto per rendermi più furtivo poi al massimo lo do a te se ti fai con l'arco così tu vai a casa ma tu sei furtivo tu sei furtivo no assolutamente no allora devo essere sincero Andrea però la tenda cioè gli oggetti mi fanno schifo cioè la tenda allora in confronto l'housing in confronto a enshrouded ovviamente la costruzione fa è minore ma vabbè enshrouded comunque ragazzi non lo supera cioè esatto enshrouded non si supera però anche questo già del suo ma qui posso prendere della pietra no no non della pietra devi prendere delle rocce è diverso sono proprio qui sassolini sono due cose diverse ma c'era scritto blocchi di pietra no i blocchi di pietra li ho già messi tutti io mancano solo i sassi ah quanti? un paio mi ricordo sono qui con te che li sto raccogliendo perché c'è chi raccoglie le conchiglie in spiagge c'è chi raccoglie i sassi vai vai ma qua c'è una ma guarda il mare c'è l'acqua penso di non aver mai visto un indi o un'acqua così fatta bene ma che bella la mappa ragazzi ma che bella la mappa l'acqua è fatta veramente benissimo Wilhelmina Sasse ma che cazzo mercanti in essenza ma c'è un mercante Andrea dall'altra parte della mappa la mia tregua che cazzo vuol dire? tra l'altro qua c'è una lingua di terra che ci permette di guardare il mare voglio andare dal mercante voglio vedere chi è ragazzi ma vi piacerebbe una serie? perché sinceramente a me intriga un botto sto gioco no è interessantissimo allora non che in Shrouded non ne valga la pena però in Shrouded sa già di già visto sa di già visto questo invece mi da un in Shrouded è più tranquillo è più da YouTube infatti lo stiamo facendo su YouTube esatto questo invece mi da più da live eh sì non so perché no anche perché oddio magari definirlo horror no però c'è qualcosa di dark fantasy un fottuto di cervello quindi potrebbe essere interessante banco da lavoro semplice pure si dà la musica di madre natura ah rinomina la chiamiamo quando ti stabilirai qua verrai presto a vinturarti più lontano l'infinito di chiama se dovessi udire il canto di quella sirena ti occorreranno le carte novelle e il potere di giocare in questo rame si trova nei siti del potere ciascuno dei quali garantisce l'accesso a sfere sempre più distanti ma ma devo farlo anch'io veramente entriquariato entrare passando attraverso il sigilo e loro partono in piedi una strana scintilla di speranza all'intrida con il suo stesso fondamento l'umanità mi sembra esagerato scava sempre più in profondità verso il piedistallo e va bene e va bene arrivederci ah non distruggerò il mio che devo farlo anch'io perché non mi conta la missione ah ok ma si possono distruggere ah c'è un porco ma scusa perché hai rinominato il mio come Paolo allora chiamiamolo Paolo Him non ti ho fatto niente applica quindi adesso sulla mappa vedremo Paolo Him esatto poi di là invece l'altro lo chiameranno Paolo Yu allora faccio un banco da lavoro Andrea non che te ne frega un cazzo allora c'è sto c'è sto per la pesca tetto piatto grezzo ci sta che mi rendi partecipe delle tue cose come negli anime che annunciano l'attacco che sta? che cazzo? ci sono i porci ci sono i cinghiali che cazzo vuoi? crepa muori c'è il cinghial era una madre di nove mamma mia però ragazzi sei fiero di questo? eh ragazzi adesso io non stavo facendo nulla che vuoi? quanta strada hai fatto e quanto poco possiedi ma va affanculo ma perché devi prenderci per il culo? mercanti in essenza cosa si può acquistare dai mercanti in essenza? gli attraversari ami possono acquistare oggetti dei mercanti in essenza dobbiamo andare dai mercanti in essenza aspetta che devo fare il mio il coso io se c'hai della pietra mettimela dentro nel progetto carne arrosto facciamo carne di grado uno e dovremmo dormire perché ho il sonno veramente basso fabbrica e ci siamo un altro porco ma per favore tuo padre era un maiale cosa devo fare? metti della pietra se ce l'hai nel mio progetto mettimela leggera si no no non farlo che poi magari lo costruisci tu no no tranquillo tranquillo ho messo quello che serviva ma che sta succedendo? però sta cosa che cioè potevano metterla diciamo in squadra insieme le missioni sono in comune c'è consume salute 4 ah ma ha una salute sto a fare lo posso riparare? non si può e magari i nemici ci vanno allora quindi questo qua in sostanza ok che cazzo sono sti suoni che sento appena apro il menu ma mi lasciate in pace 5 secondi ah l'hai costruito tu eh distruggila adesso anzi lui lo chiamo Franco eeeh va bene Franco e Paolo potevi metterlo allo stesso questo punto in modo simmetrico così eh ho provato ma eh ho provato ho provato ma lo giusto bene Franco Im allora possiamo creare il telaio di porta grezzo pietra non so a che cazzo serve il telaio che c'è una via di Milano ah no perché c'è tutto eeeh Andrea possiamo far tutta la casa qui ah madonna allora facciamo un deposito prima il deposito serve il film vegetale facciamo un deposito ma che c'è uno? eh guarda che vola il tempo quando ci si diverte nooo eh Andrea io dormo però eccoci qua questo per la pesca ah proprio ai piedi del letto così l'odore di pesce fa parte di noi ma eeeh possiamo evitare di farci il bidet capisci come si pesca allora mappa fabbricazione magari qua c'è la pesca eh oggetti semplici ascia coltello piccone piccone ah basta premere nel letto fa e si guarda fallo premere sul letto fa ah e si alza il sonno eh sì sì l'avevo già fatto è incredibile è meglio almeno non dobbiamo dormire ci sta allora che ore sono le le 23 ragazzi allora stiamo imparando a conoscere il gioco ci sembra una figata nella prossima puntata il nostro obiettivo sarà andare da William Mina Sasse che ci darà ovviamente con la quale potremo commerciare e prendere boh non lo so spero di trovare boss fight bestie schifose il gioco mi sta piacendo un sacco veramente veramente tanto lato grafico non gli si può dire nulla penso sia una delle cose migliori che si è uscita quest'anno l'impatto grafico è eccellente certo la faccia dei pupazzi i corpi fan cagare per dire Andrea come potete vedere ha i peli sulle brassi ma questo rende lei più naturale che cosa hai fatto? Pulito i vetri come si fa? con Z con Z ah mi scappello guarda però non c'è nessun cappello non c'è nessun cappello e beh fai il saluto c'è scritto attenzione fai il saluto attenzione ah ok effettivamente si piroetta indica indica per conciuto costrider questo coatto si è vero alza sulle punte alza le spalle batti le mani alza le spalle sono fatte bene le animazioni però è che è tutto molto frufru però devo dire che guarda come guarda come piroetta Andrina vuoi vedere piroetta? una ninfa dei boschi ti filo il coltello nella ginocchia come se la ride come se la ride come se la ride lo sapevo pezzo di merda vieni qua vieni qua guarda che agilità guarda che agilità t'ho preso t'ho preso no non ho mai preso Andrea se schiacci il tasto destro schivi shift e tasto destro schivi non ho capito shift e tasto destro schivi non ho capito guarda schiva voglio vedere come viene schiva no si vede che fai uno zompo ma schiva porco due voglio vedere come cazzo schiva non riesco shift e tasto destro che cazzo ci vuole le cimbie non riesco Andrea schiaccia shift per correre ma perché ti abbassi quale contro shift quando corri devi star fermo schiaccia il tasto shift senza usare le frecce tasto shift ora tasto destro lo sto facendo ma mi parano in direzione con i tasti a o d o v e s per spostarti a schivare no non me lo fa mi pare basta non posso schivare ma forse non puoi schivare con quell'arma è possibile ah è vero vediamo ah è cazzo è vero non puoi schivare con l'arma provate guarda così attiva guarda un saltafosso vado a che non ho stamina guardami guardami oh non potrò mai vedere sta cosa perché fa di tutto oh hai visto un capriolo vabbè dai Andrea buona ho sputato vabbè arrivederci come si fa ma se chiudo chiudi 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 sistema esci dal gioco segnala un errore Andrea e tu un errore guarda shift e tasto destro chiameremo il prossimo villaggio disconnetti chiameremo il padre che mi insegna a guidare è vero eh ragazzi che cazzo vi devo dire ti cazzi ti cazzi io sono portato io sono portato alla crescita assolutamente assolutamente come si esce dal gioco non si può infatti sei negli accordi che non abbiamo letto c'era scritto non puoi uscire dal gioco vabbè interessantissimo Fico ci sta una piccola serie è messo abbastanza bene per essere il lancio e questo 2024 si dimostra ancora un miracolo questo 2024 si conclude qui ragazzi si 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 dimostra no allora io l'ho detto ieri su Telegram se il 2024 dovesse finire domani dovrebbe vincere il gioco dell'anno il Divers si si allora se considerando che non usciranno esclusive non usciranno esclusive di peso continui di IP Sony e cose del genere devo dire che perlomeno questi giochi indipendenti mi dispiace che purtroppo la maggior parte sono su PC però questi giochi indipendenti stanno uscendo con una qualità devastante ragazzi stanno uscendo con una qualità tra l'altro quando Sony disse un tempo adesso ci penseremo di più ai giochi ai game as a service al comparto online io non avrei mai pensato in realtà dopo hanno cambiato idea però non avrei mai pensato lì per lì a Helldivers 2 e infatti mi sono cadute le palle con l'annuncio scusate di Helldivers 2 e non avrei mai immaginato e non avrei mai immaginato che sarebbe uscito un gioco così figo però guardate qua guardate adesso Nightingale guardate però ti ricordo che a proposito di con grafica della Madonna quest'anno ad agosto c'è pure Wukong quello dello scimmione ecco è vero è vero pure lui buonanotte a chi sta andando bestiacce buonanotte allora ragazzi in realtà non abbiamo preparato nulla per il post live quindi se volete reactare e avete un argomento o qualche cagata ditecelo che noi consentiamo se no c'è pure quel sito lì la nel caldo puoi vedere il gioco closing door se è un gioco è un horror carino se piace puoi portarlo ah già domani fermi fe prima di andare via allora prima di closing door fermi c'è un altro no no perché voglio portare un altro horror Andrea qual è qual è allora non mi ricordo più aspetta che lo devo vedere si chiama eccolo qui l'ha trovato me l'avete consigliato voi e l'ha trovato a cazzo la vale è vero pacific drive dovrebbe uscire fra un po' pacific drive è vero quello mi ispira era a fine febbraio no vedete che vado a vedere quello mi ispira un botto allora ragazzi intanto vediamoci questo bel giochino qua horror che portiamo domani siateci tratto da una storia irrealistica ah esce il 22 febbraio che è Andrea non ci interessa stiamo guardando il trailer in questo momento venerdì questo venerdì esce 22 oggi è 20 mercoledì no giovedì 22 oggi è 20 e conta con le dita devo contare con le dita che troia ma che hai stasera figa ho dei problemi gravi non riesco a contare senza se non si ma cazzo dai allora partiamo cazzo vabbè guardate il trailer di sta merda che porto domani ah ho capito qual è quello che c'è detto su Instagram esatto esatto non si vede nulla il trailer non rende giustizia secondo me per questo gioco che comunque è carino che va a ricalcare per certi aspetti ma cosa cazzo è stasera che sbadiglio a continuazione bella la meccanica del no la meccanica il vetro il vetro che si sfonda male come il vetro della scuola come il vetro come i compagni di scuola mi ricordo che andavano a pezzi così no quando ho tipo preso il sasso ho detto vuoi vedere che colpisco non puoi dirlo è illegale quello che abbiamo fatto Andrea ma era una scommessa ma non puoi raccontare sta cosa non l'ho fatto apposta era un sogno non abbiamo detto nulla ragazzi cancellate tutto quello che abbiamo detto lasciate perdere era un sogno ma questo è il trailer di prima sì e all'altro galactic rose release games presenta tra l'altro vi ricorderà molto probabilmente garden of bamban italiano dobbiamo per forza va per forza giocato in brasiliano quindi Patongi è il mostro Musi Explore the mystery Musi si chiama Explore the mystery behind a once loved and ugly popular children's toy vabbè però cazzo è proprio playtime è proprio uguale alla storia ma c'è una storia ma impegnate cazzo ma c'è che hai perso tre mesi a fare sto gioco magari si è messo una settimana con gli asseti utilizzati per carità gratuiti ma già che l'hai fatto hai perso tempo ma cazzo ma non ti puoi inventare un'altra storia no no ma sono stufo proprio playtime non è che è una storia c'è una lore diverso diverso e zoosys ragazzi non mi ricordo più quando esce comunque venerdì quindi dovrebbe uscire cosa giovedì ho il 22 conta anche tu con le dita se oggi è 20 21 domani mercoledì 22 giovedì quindi giovedì però dovrebbe esserci The Forest e già dovremmo portare The Forest adesso mi organizzo con Ale vediamo un po' che cazzo fare Andrea no perché Pacific Drive lo voglio portare tanto quindi a questo punto possiamo postificare The Forest la settimana prossima Pacific Drive è un horror alla fine Pacific Drive Pacific Drive ragazzi vi faccio vedere il trailer e poi devo vedere il trailer che mi avete consigliato prima scusatemi che mi stavo dimenticando Pacific Drive trailer questo mi piace un casino perché è una sorta di gioco è quello che avrei voluto da Days Gone cioè tu puoi vabbè in Days Gone ci sono le moto però concettualmente tu hai la tua macchina la devi potenziare e sistemare realmente non come in Days Gone che basta che ti avvicini vai a un menu e c'è un tizio che lo fa per te ma lo devi proprio fare tu quindi c'è una parte gestionale e simulativa esce sia su Playstation credo anche su PC anche questo gioco esclusiva Epic esclusiva Epic e ha questo concetto non è steampunk non è cyberpunk non so come forse Diesel Punk non so come cazzo si chiama Diesel Punk mi piace un casino ragazzi mi piace un sacco è un post apocalittico anche questo lo voglio portare poi la macchina ragazzi mi ricorda la DeLorean la mia amata DeLorean quindi perdonatemi mi ricorda anche Giallo però si avrà anche Giallo quindi sta settimana si gode proprio esce tutto che non vedo l'ora questo non vedo l'ora di portarlo poi vi ricordo che sta anche per uscire fra un mesetto Dragon's Dogma 2 che però maledetti non hanno messo la coop che però non è cooperativo quindi io non l'acquisto e non lo porto sul canale per protesta no dai no mi frega un cazzo Andrea scusa sono dei coglioni lo so però sono dei coglioni con la Capcom con la Capcom loro vogliono tenere lo single player sono dei deficienti si perdono un botto di vendite secondo me molti anni 80 la tecnologia è vero in silence lo conosciamo ragazzi bello bello questo qua non vedo l'ora comunque qual era il giochino che mi avete detto prima che non mi ricordo qualcuno mi ha detto Dino devi vedere il trailer dice un horror carino non mi ricordo più se me lo puoi riscrivere il messaggio che ne pensi di Little Nightmares 3 Little Nightmares 3 non vedo l'ora che esca a salvo ragazzi sarà cooperativo abbiamo giocato il 2 allora abbiamo giocato tutti abbiamo giocati tutti però allora io sono talmente tanto appassionato a Little Nightmares che ho giocato il primo anche perché è un gioco veloce l'avrò giocato un 7-8 volte una sera lo finisci con tanto di DLC che ho adorato alla folia ho amato quella che era la narrazione parallela chiamata lore del gioco ho amato potresti portare qualche gioco tipo Enesia anche se per carità ho amato tutto Closing Doors grazie ragazzi ho amato tutto di Little Nightmares il secondo capitolo mi è piaciuto più del primo cioè è cosa rarissima Flausa Daxin che ha scritto la prima live che ho visto del canale è Little Nightmares quindi vedi l'importanza come? eh sì allora piango allora Daxin Little Nightmares 3 Day 1 si chiamerà per Daxin mi sembra tipo un tributo ma morto perché morto Closing Doors però io vi ricordo che Little Nightmares 3 è cooperativo ragazzi quindi lo giocheremo in due allora Closing Doors mi viene fuori un film che si chiama Seedling Doors aspetta che scrivo videogame quando esce Little Nightmares 3 vado a vedere vado a vedere ma sai che non lo sto trovando è possibile che io non lo sto trovando di tre anni fa no è possibile che gioco è Death Doors questo abbiamo già portato Death Doors non è quello del Corvo Behind Closed Doors perché Closing Doors non lo trovo non c'è un giorno ragazzi per Little Nightmares è 2024 generico quindi a voi Judas lo portiamo anche Judas bellissimo quanta roba deve uscire ragazzi quest'anno però non so se esce quest'anno non mi ricordo credo di sì comunque quest'anno ragazzi io sinceramente non me ne frega un cazzo delle esclusive sinceramente lo devo dire sono più che soddisfatto quest'anno mi sta piacendo molto di più di quest'anno appena passato del 2023 dove per me non c'è anche Death Stranding 2 per dire devo uscire quest'anno sono molto curioso di vedere no 2025 no non era Death Stranding non era no 2025 ah mi sono sbagliato vabbè quest'anno quest'anno è un anno di transizione come tutti gli anni di transizione usciranno solo giochi belli allora closing doors prova a cercarlo su Steam vediamo un attimo allora è via behind behind closing doors hanno scritto behind behind closed doors questo qua possibile? vediamo un po' se parte questo? il pixel art sembra tipo Frambo possibile? non è di quest'anno ma hai mai giocato a Conjuring House si ce l'avete già consigliato però no non l'ho portato fateci un feedback è questo il gioco è questo o no? pronto? pronto presidente ragazzi ragazzi oh è questo il gioco o no? lo chiudo eh ragazzi no è ambientato in un ascensore come boh l'avete consigliato voi? ma cazzo l'avete consigliato voi? non sapete che gioco vabbè behind closed doors lo troveremo vabbè lo troveremo un bel giorno non riesco a trovare nessun Steam nessun nessun coso ma linkateci linkateci su Instagram se riuscite linkateci il video il video gameplay non so perché no su Telegram anche su Telegram per i sap è su Ictio dicono è su Ictio dicono ah ecco perché non si vede perché Ictio è il mal cacato il figlio di mezzo Ictio è il dark web allora aspetta minchia è probabilmente allora aspetta no ragazzi The Blight Survivor lo conosciamo abbastanza famoso quel gioco lì degli zombie in medioevo però anche quello non so se uscirà mai quest'anno behind the walls behind closed doors è questo? non so ragazzi non c'è trader è un ascensore ah è un ascensore ah già è vero me l'avete detto è ambientato in un ascensore behind closed doors non c'è è questo? no no va bene direi di accantonare questo gioco ci abbiamo provato ragazzi con tutti noi stessi come non vi hai ne da due ore che sta dicendo behind closed doors ragazzi portarete Hellblade 2 sì quando uscirà ma tanto non uscirà mai più praticamente allora dicevo ragazzi cos'è che volevo dirvi niente no era una notizia importante ah sì per il progetto IRL horror tanto che so che a voi in realtà non ve ne frega un cazzo ma secondo me rivoluzionerà internet e la vostra vita e non sto esagerando perché si tratta di un film interattivo dove voi potrete votare in tempo reale c'è una live dove voi vedrete un film interattivo dove io sono il protagonista e il videogioco prende vita questo è il progetto IRL horror con scelte multiple lasciata avrà il potere di fare tutto e voi sceglierete il finale vedrete 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 sono riuscito a trovare l'aggeggio che mi permette di creare la visuale POV POV ultra realistica vabbè ultra realistica grazie cazzo è la vita vera però ci siamo capiti POV FPS l'ho trovato l'ho passato l'avevo fatto vedere vediamo se riesco a farvelo vedere l'ho comprato direttamente dall'America ed è giusto per farvi capire quanti soldi stiamo spendendo per questo progetto se ho speso settimana scorsa 4,50 per GoPro 6 dogana di tasso e quanto pagherai appena ti arriva il pacco esatto 50 euro per la ragazzi ragazzi adesso scusami allora questa torcia qui la torcia è canonicamente ok il mezzo con la quale ogni videogiocatore affronta il proprio horror giusto ok tu dici questa è una torcia normale no questa è la torcia originale di queste torce ce ne sono a migliaia ma questa è la prima allora guarda qui guarda qui se tu noterai c'è uno schermino questo perché quando l'accendi c'è la percentuale di carica della batteria esattamente esattamente non mette a fuoco un cazzo esattamente come nei videogiochi quando ti dice quanta batteria ti rimane e esattamente come nei videogiochi nel progetto IRL horror noi dovremmo andare a cercare che cosa beh ragazzi è ovvio è ovvio le batterie è possibile ragazzi abbiamo pensato a tutto fidatevi da questi piccoli dettagli a tutto abbiamo pensato a tutto vedrai vedrete abbiamo pensato a tutto quindi mi raccomando se volete saperne di più delle celle all'uranio se volete se volete saperne di più andate su voi sab andate su telegram che ci sono momentaneamente soltanto per voi disponibili questi video di come stiamo realizzando di come stiamo progettando proprio da zero tutto quanto che sono a meno io li reputo molto interessanti come video a breve ci sarà il sopralluogo di queste backrooms a Milano sperando di riuscire ad entrarci e anzi ci sarò anch'io esatto e volevo farvi vedere che effettivamente vabbè lasciamo perdere quello che avete inviato su whatsapp andrea che stavo per cambiare schermata e stavano io non so niente cosa è successo vai sul canale dei moderatori su whatsapp per un secondo e avessi aperto rimetti rimetti la cancola a mia faccia che faccio la reaction aspetta un attimo aspetta un attimo reaction visiva fammi aprire una nuova scheda perché se faccio vedere sta roba in live siamo fottuti eccoci qua dai no ti ho far vedere gira aspetta una foto con vetri prima cretino ecco dicevo questo ragazzi questo aggeggio arriva direttamente dall'america ed è ed è ed è un aggeggio che permetterà di mettere la telecamera davanti alla fascia per fare la visuale in pvo come questo affare l'hanno utilizzato per fare film tipo rec l'hanno utilizzato per fare film con i motion capture da quelli che hanno portato nelle vostre case rec 1 esatto da quelli che hanno portato nelle vostre case rec 1 ragazzi vi porteranno anche irl horror night co-hop tv quindi bestiace che stiamo di che cazzo stiamo parlando 8000 dollari no è costato 217 sterline ma come sterline è dall'america ed viene dall'america ma è stato spedito dall'inghilterra è costato 217 sterline viene prodotto da la Proame USA che è una marca che è specializzata in costruzione di supporti per video editing amatoriale professionale più che altro e questa l'hanno usata non mi ricordo avevo visto anche nei porno secondo te questa mi sembra un po' impegnativo Andrea però possibile potrebbe essere quello dei porno allora in realtà permette di mettere la telecamera qua davanti il microfono qua davanti il telefono qua davanti cioè puoi far tutto può essere una regia ma la regia può essere una regia mobile esatto infatti sto quasi pensando quasi pensando di comprare vediamo com'è questo al massimo ne compro un altro per chi starà alla regia mentre scusate si filma tutto ma è che ci becchiano degli sconosciuti mentre c'è sta roba con quei caschi futuristici no Andrea io ho pensato ma allora siccome noi stiamo andando andremo in dei tunnel tunnel ormai vabbè tunnel pubblici pubblici esatto però comunque inutilizzati però è possibile perché li hanno trovati ci sono i senza tetto che si addormentano ora immaginati essere un senza tetto che si sta per abbioccare dopo il settimo giorno di fame e aprendo leggermente gli occhi si vede un uomo con una torcia in mano un casco e una telecamera che di botto sta recitando la parte di un pirla in un videogioco cioè immaginatevi questa scena secondo me le cose sono due o mi scambia per una divinità o oppure magari uno di quei senza tetto tipicamente americani che credono nella teoria del complotto del governo quindi probabilmente si si assolutamente assolutamente diranno gli ho visto i grigi nelle fogne comunque ragazzi quello che vogliamo fare noi non è solo emulare il videogioco attenzione noi vogliamo noi stiamo prestando attenzione a molti dettagli per creare un'esperienza unica su internet originale originale allora ormai penso di parlare a nome di tutti quando dico che in generale internet non si sta più evolvendo non sono i contenuti a evolversi ma sono le piattaforme a evolvere i contenuti quindi per mezzo delle piattaforme grazie a degli aggiornamenti da parte di google youtube twitch tiktok e compagnia bella c'è la possibilità di vedere contenuti nuovi grazie ai content creator però ormai purtroppo non più come i bei cari tempi di youtube quando tutto era glorioso e bello proprio all'inizio purtroppo non sono più i content creator a fare nuovo contenuto questo invece questo invece io voglio che sia un nuovo contenuto voglio che sia qualcosa di nuovo ci stiamo riflettendo su come farlo abbiamo delle idee ed effettivamente non è mai stato fatto quindi potrebbe essere qualcosa di veramente figo ora tra l'altro vorrei tantissimo dirvelo il progetto parallelo eh a a a a a a però non posso dirvelo ragazzi però abbiamo un'idea che è wow quindi a tutto a tempo debito ragazzi vi diciamo soltanto che noi ogni fine settimana ogni fine settimana in teoria registriamo il video diario che ripeto è esclusivo per telegram diventerà esclusivo per tutti fra un po' di tempo per ora se volete vederlo in tempo reale lo registriamo ogni fine settimana molto probabilmente nel prossimo sopralluogo ci sarò anch'io ci sarò anch'io e forse pure Daxin questo sabato dovremmo teoricamente andare a vedere sì ci dovrebbe essere anche Daxin dovremmo andare a fare un oggettino che non so se è giusto spoilerare ma meglio tenercelo per no vedremo 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 gli alieni nei tunnel sarebbe figo ecco ci hai dato un'espirazione permettemi di essere scettico se ti dico che su TikTok è pieno di gente che va nei boschi o nelle case abbandonate in RL cerca di mostri e spiriti ma quelle sono minziate no ma quello non c'entra niente non è quello che vogliamo fare quello lì è quello definiamo cacciatori di fantasmi ok quello c'è sempre stato quella è la ricerca del paranormale quello non c'entra nulla noi parliamo di un allora il concetto è IRL Horror Night è praticamente purtroppo è difficile da spiegare ragazzi riesco a spiegarmi molto meglio nel video è come se fosse una roba interattiva è come se un videogioco prendesse vita ma in questo videogioco a giocare non sono io siete voi perché voi voterete ogni mia azione nel gioco quindi se davanti a me ci sarà un bivo voi mi sceglierete se farmi andare a destra o a sinistra in base a quello che sceglierete ci accadranno diverse cose tipo in un percorso potrò trovare qualcosa nell'altro potrò trovare un'altra quando ci sarà il pericolo che può essere il mostro che può essere quel cazzo che è ci saranno delle azioni che vi verranno richieste ci saranno anche concettualmente degli eventi quick time event per definirli così in sostanza è un videogioco che prende vita e voi potete giocarlo attraverso me che sarò il protagonista in questo contesto reale IRL da lì IRL Horror Night perciò non è è una serie animata è un film interattivo può morire veramente ci sono sì sì ci sono dei film che si definiscono film interattivi ci sono delle serie su Netflix che non so se lo sapete quella di Berglis esatto dove potete votare che cosa far fare a Berglis tipo farlo salire sull'albero farlo nascondere nella grotta prima che l'alluvione lo porti via e poi la zebra si mangi i suoi resti questo è concettualmente la stessa cosa applicata al mondo dei videogiochi con la nostra firma ovviamente e in un altro contesto è un film nel film ma è anche un gioco quindi in sostanza è tutto questo insieme è qualcosa di nuovo ragazzi che non è mai stato fatto su Twitch perché è più che altro è in tempo reale cioè sarà una votazione canonica è una roba molto ambiziosa un film interattivo lo fai tu da solo col telecomando al massimo c'è qualcuno a fianco votate insieme questo si tratta di un evento live che poi verrà ricaricato su YouTube ma è un evento live tutti voi della chat voterete cosa cazzo farmi fare concettualmente ci saranno mille bivi narrativi si potrà rigiocare appunto per questo più e più volte però questo sarà l'episodio pilota poi ce ne saranno altri cinque e questo è concettualmente è quello che è l'IRL Horror Night non siamo noi che ci mettiamo in testa una telecamera e andiamo a riprendere una casa abbandonata quello effettivamente non è nulla di diverso non è nulla di nuovo quello è su un'esplorazione su un'esplorazione urbana che è un format che al di là di quelli che cercano i sasquo cioè urlano nel bosco quelli che fanno l'esplorazione urbana un format che è figo molto rilassante ma è molto diverso da quello che avevo in mente e guarda Sofia ti ringrazio quello però che ci serve non è tanto la mano in regia e sceneggiatura quello che ci servirebbe in realtà è qualcuno addetto agli effetti speciali se qualcuno adesso poi faremo un annuncio quando da tempo debito anche sui social se qualcuno di voi ovviamente a pagamento si intende perché noi facciamo le cose gratis una persona che ha disponibilità ma deve avere tempo ragazzi per carità perché poi si parte sempre con sì 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 poi passa un giorno o due nessuno ha mai tempo e si spare se ci lasciate lì come dei ciula che ci è già capitato 3000 volte ci servirebbe qualcuno che pulisce l'immagine e mette degli effetti speciali perché abbiamo in mente delle cose carine quindi se qualcuno di voi sa utilizzare programmi sì sì blanda comunque se c'è qualcuno professionista sarebbe meglio se qualcuno di voi sa utilizzare diciamolo in maniera professionale After Effects Adobe Premiere Pro insomma questi programmi di edit o quello che usate Sony Vegas proprio il cazzo che è ditecelo e fatecelo sapere che vi prendiamo sicuramente in considerazione per questo progetto che ci serve una mano da questo punto di vista perché si tratta di un film qualcuno con delle competenze competenze in merito diciamo quindi per quando pensate di portare questo progetto ragazzi ci dedicheremo anima e corpo da adesso che ci è venuto in mente fino a quando sarà concluso quando è fattibile non so quanto ci vorrà per questo vi dico ci sono dei video appositi su Telegram che vi fanno vedere quanto tempo quanto stiamo avanzando nel progetto per adesso stiamo raccimolando i materiali poi ci dedicheremo soltanto alla location che è una delle cose più difficili la location riuscire a trovare il posto giusto e poi è tutto a piccoli a piccoli step ragazzi quando è possibile ve lo diremo e diciamo è il progetto di questa prima parte di 2024 non si sa quanto durerà potrebbe durare due mesi come tutto l'anno non si sa e Lucy CopTV Fan Lucy non so scrivici su Instagram Telegram fateci sapere vabbè poi non so se avete lo stesso nick fateci sapere chi siete diteci il vostro nick ti ho scritto in chat ci date una mano grazie mille noi siamo qua vogliamo usufruire di voi certo certo allora la location l'abbiamo trovata il problema è accedervi ragazzi sotto i nostri condomini ci sono dei poi chiudiamo ragazzi con quest'ultima roba ci sono dei tunnel in realtà per tutta Milano ci sono dei tunnel perché non ti lo sanno ma concettualmente è tipo una sorta di Parigi Milano sotterranea c'è una Milano sotterranea vera e propria è pieno zeppo di tunnel sotto il mio condominio e l'ex condominio di Andrea perché eravamo vicini di casa ci sono dei tunnel degli anni 50 60 vecchi proprio vecchi che collegano che collegano tuttora questi condomini sono utilizzati per il carico scarico delle merci e adesso sono in disuso sono stati abbandonati c'è anche l'accesso alle fogne c'è l'accesso alle fogne c'è l'accesso ci sono l'accesso poi ai parcheggi in sostanza ci sono i condomini i garage con le cantine e poi ci sono in mezzo questi tunnel ma quando vi dico questi tunnel non vi parlo di 100 metri 200 metri io vi parlo di un sistema reticolato sottoterra di non so quanti ettari di terreno di labirinti ovviamente a celle quadrate di questi cazzo di tunnel che ricordano in tutto e per tutto alcuni livelli delle backrooms quindi sostanzialmente noi la location ce l'avremo il problema è riuscire ad accedervi perché stanno venendo fuori brutte notizie a quanto pare una chiave siamo riusciti a recuperarla per poter accedere però a uno dei box però non riusciamo ad accedere poi ai tunnel quindi dovremmo cercare delle persone che hanno il potere dobbiamo cercare persone che si danno il permesso di andare nei condomini a fianco perché è lì che c'è l'accesso ai tunnel direttamente almeno quelli dove giocavamo noi da piccoli quando avevamo 10 anni i tunnel sono suolo pubblico appartengono al comune di Milano quindi sono territorio calpestabile solo che per arrivare in quel territorio calpestabile devi passare da zone private proprietà privata quindi quello è il problema quindi vedremo finalmente correre di no piuttosto muoio comunque vi dicevo quindi in sostanza dobbiamo accedere a un'altra area condominiale che ci dovrà dare dei permessi stiamo facendo un puttanaio ragazzi stiamo muovendo Mario Monti però dovrebbe essere fattibile sulla carta sulla carta sì perché si tratta di permessi a meno che non ci dicano no tra l'altro ovviamente abbiamo anche delle referenze perché mio padre lavora nel settore immobiliare quindi mi può dare una mano quindi tra l'altro non non facciamo nulla di illegale perché avremo delle certificazioni per attestare il fatto che dobbiamo fare solo semplici un permesso come troupe televisiva vogliamo fare una roba seria veramente quindi ci stiamo avete il mio permesso grazie Daxin quindi direi a questo punto possiamo fare possiamo fare tutto bestiacci con queste bellissime notizie io direi che possiamo chiuderla qui domani alle 21.30 siateci con la nuova horror night vi teniamo aggiornati su tutto e tutti e niente bestiacci io vi ringrazio spero che questo nightingale vi sia piaciuto almeno tanto quanto è piaciuto a me e adesso collassiamo dal sonno entrambi perché sono stanco non so perché non so io continuo a sbadigliare una settimana che non sto carburando la vecchiaia fate bravi fate buoni grazie per tutto bestiacci vi voglio bene grazie di cuore vi ricordo a voi telegram che avete appunto telegram a breve tra l'altro giocheremo pure insieme e avete grazie anche per youtube ragazzi gli abbonamenti su youtube stanno aumentando tantissime siamo già a 120k aspetta ve lo dico subito lo dico subito pensate 120.000 euro di abbonamenti su youtube ragazzi incredibile 115k 115k ah tu dici di iscritti ah ok si già 15 già 15.000 euro ma tanto Andrea se ti vanti dei soldi ormai è normale quasi ormai anzi se non lo fai sei un pirla quanto fatturi bro dove è Dubai dove è Dubai dietro esatto esatto bestiacci ci vediamo ci vediamo domani ciao buonanotte fatti bravi buonanotte buonanotte buonanotte